davvero bello questo questa autobiografia Becky ha fatto davvero un ottimo lavoro come dice Obi-Wan scusa ah si come dice come suggerisce il buono Obi-Wan siamo in live signori benvenuti bentornati in un nuovo episodio del Pro Wrestling Culture ero alle prese con la lettura dell'autobiografia di Becky Lynch che mi sto pian piano divorando giorno dopo giorno ma perché siamo qui? siamo qui perché è tempo di recensire Wrestlemania è passato agli archivi un nuovo weekend tra i tanti eventi ovviamente c'è stato quello principale Wrestlemania XL è giunto quindi alla sua quarantesima edizione ed è stata un'edizione che è riuscita a fare la storia sapevamo che avrebbe fatto a priori la storia come vuole più o meno ogni Wrestlemania ma questa forse ci è riuscita in modo davvero particolare io ovviamente non sono solo perché qui con me c'è una lunga lista di compagni di viaggio io sono Aldo Fiadone e come sempre eccolo qui il professore Matteo Pagliarella ciao prof direttamente dal cestello del Barclays è cinema è cinema è cinema e sia romanzo che cinema quindi a posto ciao Matteo ciao Matteo alla prossima ciao tra l'altro abbiamo la stessa maglia va bene così benissimo 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 sempre 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 ma ci arriveremo ci arriveremo qui con noi direttamente dal generationsport.it Paolo Ascolese ciao Paolo bentornato ciao Aldo buonasera a tutti è sempre un piacere essere qui al PwC buonasera a te bentornato di nuovo è sempre un piacere averti qui con noi signori e signori il wildcard Marco Bressanini ciao Marco buonasera ciao Aldo buonasera ciao prof ciao Matteo ciao Paolo sempre un piacere essere qua nella versione serale del PwC è sempre un piacere averti qui con noi in particolare per occasioni così importanti così grandi e ovviamente non può mancare il buon Vale Freak Valentino Spataro ciao Vale ciao a tutti buonasera 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 a te io posso in te cambierei i colori di quella sedia però vabbè sono gusti ci sta va bene così dai va bene così io non l'acknowledge ho quella sedia quella no va bene e direttamente da zona wrestling punto net è la sua prima comparsa qui nel pro wrestling culture signori e signori Umberto ciao buonasera a te ciao buonasera a tutti e grazie Aldo grazie a te grazie a te per essere qui ne sono davvero ne sono davvero felice e benvenuto allora innanzitutto un saluto anche alla chat il buon Chris Sian il buon Steven Strike il buon ecco questo mi è sempre difficile pronunciarlo Calfort chiamiamolo così dai così facciamo prima quindi un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo noi in questo momento siamo live sul canale YouTube e Twitch di Open Wrestling TV e sulla pagina Facebook di zona wrestling punto net allora ragazzi come sempre io vi ricordo che potete acquistare merchandising del pro wrestling culture consultando il link in sove impressione e eccoci qua WrestleMania 40 una settimana fa eravamo qui a fare i pronostici dello showcase of immortals oggi siamo qui per recensire lo showcase of immortals abbiamo visto accadere di tutto ma andiamo con ordine vi elenco un attimo tutti i risultati delle due serate partiamo da quella del sabato con il titolo femminile in palio in cui Rhea Ripley è riuscita a difendere la cintura contro Becky Lynch titoli indiscussi di coppia in palio in un under match che poi si è rivelato avere due team vincitori con Grayson Waller e Austin Theory campioni di coppia di SmackDown e gli Awesome Truth campioni di coppia di Raw Rey Mysterio e Andrade che hanno superato il team composto da Santos Escobar e Dominic Misterio main event Jey Uso che sconfigge il fratello Jimmy Uso Jade Cargill Bianca Belera e Naomi che superano le damage control e poi il titolo intercontinentale con Sami Zayn che riesce a concludere la sua storia e superare Gunther dopo 666 giorni di regno e il main event appunto della Night One con The Rock e Roman Reigns e rappresentanza della Bloodline che superano il team composto da Cody Rhodes e Seth Rollins proprio per tale motivo il main event della Night Two è divenuto poi un Bloodline Rules arriviamo appunto alla serata della domenica titolo dei pesi massimi in palio Drew McIntyre sconfigge sconfigge pulito Seth Rollins per poi subire l'incasso di Damian Priest del Judgment Day e quindi Damian Priest il nuovo campione dei pesi massimi Six Man Philadelphia Street Fight con Bobby Lash e gli Street Profits che superano il Final Testament Ellen Knight che sconfigge AJ Styles consacrando un po' il suo momento in WWE titolo degli Stati Uniti in paio in un Triple Threat Match dove Logan Paul difende la cintura contro Kevin Owens e Randy Orton titolo femminile con Bayley che diviene nuova campionessa superando Io Sky e infine l'Undisputed WWE Universal Championship Bloodline Rules con Cody Rhodes che finisce la sua storia e supera il Tribal Chief Lead of the Table il leader della Bloodline Roman Reigns intanto ci ha raggiunto anche il buon Samuele ciao Samu buonasera a tutti bentornato e ragazzi questa è stata Wrestlemania 40 questi sono stati i risultati dell'evento ma noi dobbiamo giustamente analizzare tutto ciò che c'è stato insomma quindi prof lascio iniziare te per poi sentire l'opinione degli altri cosa vuoi sapere Aldo le cose che mi sono piaciute di più o le cose che mi sono piaciute di meno beh logicamente è una recensione quindi entrambe ok parto dalle cose che mi sono piaciute di meno di meno mi è piaciuta l'organizzazione in uno stadio in un momento in cui il meteo era particolarmente complicato perché Filadelfia in questo periodo è fortemente piovosa e fredda rispetto alle solite menia a cui siamo abituati a stare e anche se pure noi l'acqua l'abbiamo presa quando siamo stati quando siamo stati a vedere il SME 35 ci ha salvato il ponte ci ha salvato il ponte ecco infatti e secondo me purtroppo c'è stata un'organizzazione veramente brutta riguardante i posti e ho visto tante 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 persone che si sono lamentate anche di posti che non erano stati considerati come visibilità limitata invece magari sono trovati i proiettori davanti o altre situazioni abbastanza complicate e queste cose la WWE dopo per SME 35 perché prendo quella come riferimento della famosa luce la famosa luce rossa che non permetteva la gente di vedere diciamo sono cose da tenere fortemente in considerazione specialmente quando sei in uno stadio per quanto riguarda proprio i risultati di mania a me non è piaciuto la vittoria di Smackdown veramente in un'apatia più totale sembrava la gente sembrava chiedersi ma veramente hanno vinto questi e magari sicuramente potranno fare qualcosa di importante anche avendo visto poi chi ha vinto il match del titolo United States però vediamo un po' che cosa hanno intenzione di fare gli altri punti negativi sono quelli che conosciamo siamo quelli che quei match che abbiamo visto come spot ma che sono stati riempitivi più che altro per dare una rilevanza alla gente che doveva stare in card come il 3 contro 3 come lo street fight del giorno dopo forse un pochino deluso un po' sottotono da Jimmy contro Jay un pochino sottotono potevano sinceramente dare di più anzi avrei preferito quasi una stipulazione per quel match paradossalmente il bloodline rules match andava quasi meglio per loro rispetto a ad altre situazioni che abbiamo visto non al main event poi che c'è stato a notte 2 che altro bene o male bene o male questo bene o male questo non mi è piaciuto tanto il pubblico di notte 1 molto moscio invece noi siamo abituati a un pubblico decisamente più smart a mania e niente va benissimo così per quanto riguarda i punti negativi ragazzi i punti positivi ce ne sono tanti io metterei proprio dentro tutta notte 2 perché per me notte 2 è stata è stato veramente un piccolo capolavoro che hanno fatto come coronamento totale il il main event perché vedendo quel main event a me è capitato di rivederlo stamattina e di vederlo oggi a pranzo mentre ero a scuola aspettare il collegio di docenti e l'ho rivisto ragazzi e questi hanno fatto un capolavoro io quando sento parlare di wrestling voglio parlare di voglio sentire parlare di storia e questi hanno raccontato una storia perfetta veramente veramente perfetta da sotto ogni punto di vista anche il discorso di The Rock con Undertaker che magari poteva essere un pochino forzato invece ragazzi stava bene Taker quando è entrato ha detto questa è casa mia facciamo quello che dico io io sono quello che mette il punto finale di questa situazione e è andata bene così cioè per me veramente non hanno sbagliato nulla parlo di quel match ovviamente che però è è la la vetrina la vetrina di WrestleMania 40 tu sei stato capace anche di di vai no dico d'altronde alla fine come ci insegna un po' la storia come ci insegna una persona che non si può più nominare all'interno di questo business i grandi eventi di per sé si ricordano per come iniziano e per come finiscono quindi logicamente quello che ricordi principalmente è questo poi è normale che se un evento è fatto bene in toto allora riesci a ricordare anche tutto il resto ecco secondo me la eh eh oddio come posso definirla la proprio la parola che può definire tutta quanta prestelmania è la superbia è la superbia è la risoluzione dei conti perché perché a Drew non ha importato niente del titolo ma gli importava andare là faccia a faccia con Punk e litigare quando a Reigns stessa situazione ha dovuto saldare i conti con il passato con la la sediata a Rollins con la divisa dello Shield e la superbia di lasciar perdere il titolo per quel momento ma dire no io devo risolvere i miei demoni e penso che veramente sia la la descrizione totale almeno di Notte 2 dell'evento l'unica cosa ecco Aldo scusami il punto forse negativo che forse poteva dare quel 10 più per il main event è che non c'è stata nessuna citazione alla Spear di Reigns di Notte 1 su The Rock non c'è stato nessun riferimento a quello e di quello forse me l'è un po' dispiaciato perché potevano giustarla meglio ma probabilmente la recupereranno quando ci sarà modo di recuperare quando ci sarà necessità sicuramente potrebbero esserci diverse necessità nel prossimo futuro questo poi poi ci arriveremo nei ragionamenti Paolo i tuoi top in flop di Wrestlemania 40 allora innanzitutto dico che per me questa Wrestlemania scandirà un'epoca cioè nel senso per me stato un evento epocale grandioso da questo punto di vista e credo che ciò che hanno costruito e sono riuscito a costruire è un qualcosa che affinché si ripete in futuro ci vorrà sicuramente tanto tempo perché abbiamo visto in questa pressermena confluire praticamente dei intrighi e situazioni personali che andavano avanti praticamente da un decennio tutta la storia e l'arco narrativo di Roman Reigns che è stato grandioso si è appunto risolto nella Night 2 cioè con questo filo rosso tra Night 1 e Night 2 con questi due main event colossali praticamente intrighi appunto tra i performer coinvolti storie di vita vera vissuta da parte di Cody Rhodes veramente da un punto di vista narrativo e hanno raccontato una storia clamorosa da questo punto di vista bello appunto vedere la chicca di storytelling come diceva appunto Matteo nel del main event di Night 2 con Seth Rollins appunto e Roman Reigns per quanto riguarda un parere globale e complessivo come dicevo si respirava anche l'aria appunto che questo verrà ricordato come un evento iconico nell'inizio di una nuova era c'è stata quest'aria un po' celebrativa anche appunto al termine del main event molto pomposa di rincarare la dose sul fatto che questa fosse una nuova era il breast ring di nuovo al top all'ennesima potenza e quant'altro e da questo punto di vista è stato anche emblematico vedere Cody nei festeggiamenti con Nick Khan Bruce Prichard Triple H e quant'altro quindi questa è davvero una nuova era è un'epoca d'oro in un certo senso per quanto riguarda la WWE e per quanto riguarda top e flop andando nello specifico per me la Night One è stata quasi del tutto sorretta sul main event epocale che c'è stato fondamentalmente perché oltre quel main event salvo il leather match per i titoli di coppia positivo l'opener tra Becky Lynch e Ria Ripley non straordinario come il match dello scorso anno di Ria Ripley contro Charlotte Flair che è stato un match straordinario ma per quanto riguarda il resto c'è stato poco il match tra i Mysterious e l'LW e Sardos Escobar e Dominic poca roba c'è un match da puntata praticamente Jimmy contro Geuso la più grande delusione dell'evento tranquillamente il 3 contro 3 femminile un semplice showcase per Naomi Bianca e JT Cargill fondamentalmente quindi mentre per quanto riguarda il leather match di titoli di coppia un match molto divertente quello la trovata la divisione delle cinture ci poteva stare era un pensiero che già mi balenava in mente da questo punto di vista buona scelta da parte dei campioni secondo me perché i Oson Truth meritavano appunto questo riconoscimento da una parte credo volere d'ostintieri dall'altra considerando il ritene di Logan Paul tutto può essere contestualizzato da questo punto di vista sicuramente avranno modo di lavorare anche con Randy Orton e Kevin Owens sempre in quella storyline lì per quanto riguarda i partitori di coppia di SmackDown magari perché i due stavano facendo coppia nelle ultime puntate mentre per quanto riguarda il main event in Night 1 c'è poco da dire come dicevo è stato colossale intresante ovviamente The Rock che torna si vede una vittoria lo schienamento su Cody nel main event di Wrestlemania tanta roba l'ultima grande affermazione della bloodline prima appunto della caduta che c'è stata nel giorno dopo quindi sacrosanto anche come riconoscimento a Reince e tutto il resto e sono sicuro che questo sarà uno snodo cruciale perché la rivalità tra Cody e The Rock per me continuerà magari ne parleremo dopo per vedere quelli che saranno i prospetti futuri di Wrestlemania ma io mi aspetto che in un big evento come può essere SummerSlam o altro The Rock vada a collidere con Cody perché la rivalità che c'è stata nella rotatura esterminia è stata fondamentalmente incentrata quasi esclusivamente tra Cody e The Rock l'abbiamo visto nei vari segmenti e quant'altro con The Rock che va a battere il futuro campione quindi è tutto lineare che si andrà sicuramente a questo punto ovviamente nell'imitato futuro per quanto riguarda la Night 2 mi accudo a quello che ha detto Matteo è stato davvero molto soddisfacente l'opener è splendido a mio avviso molto carico un bel match con il bel momento della vittoria di Drew mi sono molto emozionato perché aspettavo appunto questa affermazione davanti al pubblico come meritava bello anche il momento dell'incasso chiaramente mi aspetto che Drew ovviamente vincerevo il titolo in Scozia quindi secondo me il piano a lungo andare è questo con Punk che poi affronterà Drew per il titolo magari a SummerSlam per quanto riguarda il resto evito di dilungarmi ulteriormente fondamentalmente perché concordo con quello che ha detto Matteo dico che un'altra cosa da considerare dal punto di vista dello storytelling proprio puro e fatto a regola d'arte è stata una frase che Seth Rollins ha detto a Cody Rhodes quando gli ha proposto l'alleanza ha detto io sono l'unica persona che può essere il tuo scudo e lo è stato letteralmente perché ha fatto da scudo nel finale prendendosi la sediata da Reigns si è distratto per questa cosa e Cody ha preso la vittoria overbooking diciamo forse un po' sopra le righe esagerato però nel contesto ci può stare ripeto l'intento era creare una Vestelmenia iconica lo è stato una Vestelmenia che ha scandito un'epoca se ne parlerà in futuro una Vestelmenia da questo punto di vista emblematica appunto per presentare questo nuovo aereo questo nuovo corso e quindi di conseguenza da questo punto di vista hanno vinto e quindi godiamoci quelli che saranno i sviluppi futuri chiaramente c'è una voce venuta fuori nelle ultime ore dove pare che alcuni addetti ai lavori della WWE abbiano dichiarato la seguente citazione lasciamogli il mercoledì sera chiaro riferimento indiretto a quella alla concorrenza diciamo Marco la tua opinione in merito a queste due notti di Vestelmenia allora un discorso generale che questa Vestelmenia è stata come hanno già detto prima di me Paolo e Matteo epocale segna veramente un'epoca segna un passaggio di consegni e l'inizio di una nuova era ben più di quanto fu ai suoi tempi Vestelmenia 21 per chi ha iniziato a vedere il Vestelmenia del boom anche con Italia perché anche all'epoca Vestelmenia 21 era vista come l'inizio di una nuova epoca a confronto non è nulla paragonando quello che è successo in queste due notti con Vestelmenia 40 è veramente una Vestelmenia XL in questo senso anche per quello che ha messo sul piatto non tanto necessariamente a livelli di lottato a livelli di risultati ma proprio a livello di importanza per quello che riguarda il futuro della disciplina e a maggior ragione il futuro della WWE hanno fatto capire su queste spalle si reggerà il peso del futuro della compagnia negli anni a venire Cody Rhodes in primis io che come sapete non sono esattamente un fan di Cody Rhodes come personaggio chiaramente come performer perché come persone penso che siano delle persone più buone e professionali di questo pianeta si porterà sulle sue spalle il peso e la grossa responsabilità di trascinare la compagnia nel futuro aiutato chiaramente lavorando di concerto insieme ai colleghi performer e chi ha manovra i fili dietro le quinte parlando invece delle due notti a livello come posso dire a livello singolo anch'io penso notte 2 decisamente migliore della notte 1 notte 1 che si è retta su tre match l'opener il main event e il match di di semi semi zen e gunter deluso anch'io dal match dai fratelli uso mi aspettavo molto di più anzi mi hanno dato più enfasi quando ci sono menati nella rissa che hanno inscenato durante il main event della bloodline rules quei due minuti è stato più più enfatico del loro match intero della sera precedente anch'io un po' basito nel nel ladder match più deluso il quarto fratello deluso anch'io un po' deluso dal match a coppie anch'io ho la stessa sensazione che ha provato il prof quando hanno vinto teo e waller e pittori di smackdown nel silenzio nel nulla cosmico generale e quindi è stato un match di cui mi aspettavo un po' di più onestamente di solito è la classica fagiolata spotfest tutto quello che vuoi però è stato un po' un po' così come ho trovato tremendamente mediocre il match dei messicani che mi fanno così e anch'io sono convinto come ha detto Paolo che era un match da quanta settimanale e neanche da mine event di quanta settimanale un match interrotto da due o tre pubblicità possibilmente perché non mi ha non mi ha lasciato niente e il 3 contro 3 femminile è stato uno showcase più che altro per Jade Cargill per presentare Jade Cargill al grande pubblico quindi questo è stato va bene così e doveva essere tutto per il grande main event il 2 contro 2 che è stato un match intenso sentito che poi chiaramente è stata la porta aperta per quello che poi è stato il main event della night 2 e mi collego a questo prevedibile come abbiamo detto credo tutti noi la vittoria di Rock e Roman Reigns non mi aspettavo neanche io schienando Cody bene così per la storia mi ha mi ha spiazzato solamente che avrei sfortato un po' di più la Bloodline Rules nel senso che la prima parte del match è stato un match normale tra Roman e Cody io l'avrei fatto già con Roman che si presentava con tutta la Bloodline per dare quel senso di mo te apra di nuovo il culo e beh c'ho pure tutto dalla mia parte è proprio come si dice in gergo come si dice in Francia fare la punta al cazzo a dire una cosa del genere però va bene così va bene così non sentiremmo tanto dire Backlash questo più che altro nel senso noi siamo adesso a parlare del fatto che comunque c'è stato un certo overbooking quindi qualcosa di importante visto nelle fasi finale del match forse rendere ulteriormente lecita la Bloodline Rules avrebbe potuto far fare troppo probabilmente però sai te la sei guadagnata la Bloodline Rules quindi diciamo proprio cave mare diciamo per come stai raccontando la storia ti faccio vedere sin dall'inizio che tu Cody da qui non ne scappi non ce n'è invece all'inizio è sembrato quasi tra molte virgolette quasi un incontro leale poi beh chiaramente è successo e vi dirò di più mi aspettavo più overbooking io io onestamente mi aspettavo più overbooking di quello che c'è stato quindi però sono soddisfatto sono soddisfatto di quello che c'è stato sì condivido condivido perché è stato un overbooking scremato nel modo giusto con i giusti spazi poi è vero che sono il primo a dire che avrei preferito Steve Austin al posto di Taker ma il personaggio di Taker in quel momento ci stava perfettamente perché come ha detto anche Matteo prima Taker è il classico personaggio del bene anche se non ha le vesti del bene ecco perché non è che rappresenta la luce però è un po' come fu Sting in WCW quindi rappresenta un attimo la giustizia fare piazza pulita e rendere onore alle cose giuste ecco mettiamo la posizione è l'anti-eroe che si batte per la giusta ed è anche come se fosse il vero final boss della WWE fondamentalmente Under Taker che si è andata con la prima è il padrone di Wrestlemania esattamente anche da ritirato è lui il padrone di Wrestlemania basta che non ci piazzano Taker contro The Rock in Arabia una rabbia io ho un dubbio la paura per quello tutto è possibile milioni chiudo il volo scusate che superano troppo tempo le ultime due cose sulla notte 2 contentissimo ma proprio per Bayley finalmente ma finalmente un gran bel match e una vittoria strameritata per la mia la mia preferita delle 4 Horsewomen finalmente nel palco scenico più importante in un match singolo e mi rilascio quanto detto dal prof per chiudere il discorso con il titolo dei pesi massimi storia raccontata molto bene quella di Drew, Seth e CM Punk con Drew più invogliato a fare lo sbruffone con Punk che non prendersi il suo momento di gloria per poi venire beffato è clamoroso veramente raccontata a maniera molto bene è un romanzo degno dei migliori autori come come il buon William Shakespeare però questa è stata è stata la Bloodline o perlomeno continuerà ad essere la storia della Bloodline perché sì abbiamo un nuovo campione ma in verità tutta la storia tutti gli strascichi della Bloodline non non sono finiti ecco perlomeno gli strascichi continueranno in eterno probabilmente e questa questo è un ulteriore capitolo che si conclude così come si concluse quello di Semi Zain lo scorso anno eccetera eccetera però ce ne sono altri da scrivere vedremo un po' poi come andrà Vale dici la tua Wrestlemania è sempre Wrestlemania e quindi a volte può lasciare delusi o magari anche sovremozionati però ecco non lascia mai indifferenti e non parlo solamente dell'evento in sé ma anche di ciò che avviene prima quindi i giorni precedenti allo show con le indiscrezioni i rumor delle foto e quant'altro per quanto riguarda lo show anch'io sono la cosa positiva e eccezionale di me sono il 2020 perché già in passato le edizioni decennali di Pessemeno stancito comunque un passaggio di consegna una linea di demarcazione tra il primo e il dopo adesso ancora di più perché comunque ha avuto un regno monumentale che è stato a concludere poi abbiamo avuto anche il ritorno di The Rock sul ring con un personaggio fantastico e quindi questo è stato il plus di tutta questa WrestleMania poi appunto tutte le varie interferenze della seconda serata con quando John Cena e The Rock uno contro uno se gli si flash di dieci anni fa e passa Undertaker insomma quello è stato bellissimo mi ha emozionato devo dire i loro di Seth Rollins in questa WrestleMania perché partiva un po' come la seconda insomma in secondo piano rispetto ai vari Roman The Rock e Cody e alla fine secondo me lui non so se dire è l'NVP dello show però veramente lui parte la prima sera già lui arriva al Vesternia già mezzo mezzo per quello che ci hanno raccontato era infortunato fino all'altro ieri quindi fa il medevento la sera prima da 40 minuti e passa la sera dopo fa il primo match che per l'impostazione che ha avuto ovvero di tante finish molto anche frittoroso forse è stato fatto appunto in questo modo perché Rollins probabilmente non poteva gestire un match normale quel match lo perde addirittura poi perché perde anche la cintura e poi riappare nel medevento sacrificandosi per Cody ecco poi anche lo scagno di battute con lo stesso Cody dopo il medevento ecco ho molto apprezzato questo set Rollins e secondo me ecco lui non so cosa sarà di lui perché non so se magari resterà un po' fuori per l'infortunio non so però lo rivaluta molto agli occhi di tante altre persone ecco perché comunque questo regno spesso ha avuto delle delle critiche però ecco il modo in cui si è concluso secondo me è dato molto molto onore altre cose positive il match per il titolo intercontinentale il match del titolo degli Stati Uniti con la Campo che si conferma comunque un elemento molto valido e il match femminile della seconda serata tra YoSky e Bailey lato negativo la notte 1 secondo me non è digno di Versilmania le patrie il main event e il match per il titolo intercontinentale il resto è una cosa improponibile secondo me con tanto di led pubblicitari io sarò non so però a me è stato un fastidio allucinante vedere quei led spalati specialmente quando andava a bordering troppo troppo cioè il primal centring te lo concede va benissimo però il led delle chicken wings dei cessi delle assicurazioni troppo l'incasto di Priest cioè lui per me si è stato lì a dormire nel backstage che Rollins era mezzo morto adesso che ha fatto un match di 10 minuti ha avuto tempo di recuperare fa anche che lo colpisce in maniera troppo violenta e lo incastra così un po' mi ha fatto storcire il naso però era nell'aico prima o poi doveva arrivare ed essere il momento giusto come avete detto voi il match degli usos poi ecco in main event della notte 2 una cosa che un po' non mi ha convinto troppo le interferenze sì erano preventivabili però la cosa che non mi è tornato molto oltre come diceva anche Marco del che doveva essere applicata all'inizio il fatto che le interferenze siano arrivate tutte insieme in un arco di tempo quindi il match è stato stoppato per 5 minuti anche di più e poi sono ripreso con la battuta finale di Cody che vince contro Roman Reyes questo secondo me ha un po' levato il pathos che avrebbe dovuto avere ai miei occhi la fine di questo regno magari Roma che prova con tutte le forze da solo a mantenere la cintura che non vuole rendersi invece così non è stato perché di punti in bianco Cody prende e vince ecco un regno del genere l'avrei voluto vedere terminato in una maniera un po' più eroica da parte di Roman Reigns questo è e poi un po' l'ultimissima cosa il post match con l'ingraziamento Triple H Bruce Prichard è una cosa che avrei messo più che altro la telecamera è spente non lo so anche con l'abbraccio con il can non mi ha fatto impazzire ecco sono cose che davanti alle camere avrei mantenuto le risposte con i colleghi con la famiglia e basta metterci un po' la dirigenza secondo me non è figo quando il trattatore parla bene comunque del suo boss abbiamo avuto comunque i giochi di Steve Austin che per anni andava a quel paese il suo capo adesso è troppo l'opposto cioè durante gli show oddio è vero anche che oggi oggi devi vendere un capo tra virgolette migliore perché provieni da una situazione dove il tuo precedente capo ha fatto dei danni a livello di immagine e quindi devi vendere un'immagine buona e il tuo uomo di punta che in questo momento è Cody Ross logicamente deve fungere come l'aziendalista che comunque è consapevole di quanto buono ci sia nella gestione delle cose da un lato posso anche concepirlo quel post match sinceramente così come è inutile negarlo cioè la mia maglia parla da sé come quella di Matteo cioè io ero team Roman pur consapevole del fatto che Cody avrebbe vinto il suo match però è impossibile non commuoversi quando Cody prende quella cintura e la pone nelle mani della madre perché giustamente purtroppo non ha potuto porla tra le mani del padre forse me lo sono perso nessun riferimento da Steve Rhodes cioè tutto questo casino è stato fatto appunto per il padre nel riferimento è quello non c'è stato un dito al cielo non c'è stato c'è stato c'è stato uno sguardo al cielo sì 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 c'è stato uno sguardo al cielo con un sorriso e poi logicamente il riferimento principale era quello perché Cody anche l'anno scorso disse che non avrebbe potuto consegnare la cintura tra le mani del padre lo avrebbe fatto tra le mani della madre ed è tutto ciò che si ricollega al famoso Mama Rhodes il Mama Rhodes di The Rock è stato creato per questo proprio per arrivare poi a rafforzare quel momento in cui le telecamere ci avrebbero posti dinanzi a Cody Rhodes che cedeva la cintura tra le mani della mamma insomma è stato molto emozionante sinceramente su questo non si può dibattere assolutamente mi è piaciuto molto il commento di Mirko prima era Mirko mi sa sì Mirko Puliti dove dice che pensava addirittura ad un Randy Orton che potesse interferire non ci stava malissimo come aspetto perché comunque Randy eccolo lì noi abbiamo la protezione di Obi-Wan ricordiamolo ricordiamo siamo pro bloodline ovviamente noi qui no dicevo la presenza di Randy sarebbe stata molto interessante perché in fin dei conti alla fine è lui che ha forgiato Cody Rhodes in passato perlomeno dal punto di vista on screen ma poi abbiamo saputo nel tempo anche off screen poi sappiamo anche che Randy Orton è stato un anno e mezzo fuori dal ring in chiave storyline per colpa della bloodline quindi sarebbe stato sicuramente ben accetto vederlo vederlo interferire però in fin dei conti io onestamente rimango soddisfattissimo per quello che ho visto ci sono diversi commenti che mi piacerebbe recuperare abbiamo Kane 7799 dice perché The Rock poi non ha fatto sanguinare Cody e dato la cintura alla madre la notte 1 cioè capisco che era troppo come scena da fare però poi poi però tutti quei segmenti e poi quando ha potuto se n'è andato Matteo ti ho visto prima col dito alzato vuoi rispondere tu? si si rispondo vabbè sarebbe stato magari forse mettere troppa carne al fuoco ci poteva stare come hai detto te con il discorso di Randy Orton ma andava bene così io volevo più che altro aggiungere una cosa al discorso che ha fatto Vale perché io non so se tutti quanti l'avete letto o magari l'ho letto e interpretato male io ma a quanto pare Priest è uscita la notizia che lui non sapesse niente fino praticamente all'inizio di Mania cioè realmente lui fino all'inizio all'inizio di Notte 2 lui non sapeva nulla lui non sapeva che avrebbe incassato gliel'hanno detto praticamente appena è iniziata Mania ha detto preparati che tu succede questo questo e appena che punk attacca tu vai dentro guarda posso dirti una cosa è stata è stata una presa male per quanto mi riguarda ma proprio presa malissimo cioè nel momento in cui Drew ha sconfitto tra l'altro pulito e sotto gli occhi di punk Rollins e hai già detto Rollins pure te lo sei verificato sì 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 cioè mi è partita tutta un'emozione dentro cioè obiettivamente erano quattro anni che aspettavamo questo momento perché sì quattro anni fa lui ci è riuscito ma senza il pubblico e adesso che c'era arrivato nonostante le vesti da cattivo della situazione cioè è stato troppo emozionale io almeno per 24 ore gliele avrei fatto godere io spero ma davvero mi auguro che le parole di Paolo citate poco fa quindi arrivare cioè subire questo per arrivare poi alla vittoria del titolo in Scozia clash at the castle sia la verità sia il piano perché davvero ci sono rimasto malissimo nel momento in cui i panchi è andato ad attaccare Drew ed è entrato poi Priest cioè mi ha mi ha scosso tantissimo perché rischiamo di avere in Europa due campioni massimi europei nel giro di poco guarda Matte ti posso dire una cosa ti sembrerà strano a sentirlo sentirlo dire dalla mia bocca ci sono rimasto male quasi quanto la sconfitta distinga presto la 31 a livello personale ci sono rimasto malissimo cioè io per riprendermi da quella sconfitta ho dovuto aspettare il match femminile Yosuke contro Bailey per godermi un bel match cioè ho dovuto aspettare quello perché ci sono rimasto proprio male dopo quello ci hanno messo lo street fight quindi eh sì insomma però davvero è stata una brutta però vabbè alla fine ci sta io poi voglio leggere una cosa su Reigns ma la leggiamo dopo quando hanno finito tutti quanti ok facciamo finire il giro vai dicci la tua allora sono state due notti molto diverse tra di loro eh io come aspetto negativo proprio per eh decretare la notte 2 anche migliore della prima dico il pubblico nella prima notte veramente veramente assente sarà il fatto di un'arena all'aperto sarà il fatto di un coinvolgimento un po' un po' nullo in alcune contese però nella notte 2 ha iniziato come nella notte 1 ma per esempio nel match di Bailey con il classico coro per lei e nel main event è come se si fossero svegliati da un torpore che durava dalla sera prima però mi dispiace perché il pubblico secondo me come nelle arene come immagino stasera che a Raw il pubblico vedrà Cody finalmente campione come esploderà penso che sentiremo uno di quegli uo' pazzeschi ed è questo che rende il wrestling molto bello è questo che rende un qualcosa un'atmosfera la rende molto meglio quindi questo è per me il maggior aspetto negativo della notte 1 poi i vari riempitivi che abbiamo detto e il match fra i gemelli che forse è stato preparato con largo anticipo messo un po' da parte e riacciuppato per le orecchie a forza e siamo arrivati a questo match veramente con niente più da dire e poi permettetemi una battuta è stato un super kick party che ai young bucks farebbe molto molto piacere adesso battuta a parte quella è stata l'illusione della prima serata nella prima serata però vorrei fare i complimenti a Becky Lynch perché a differenza di molti colleghi e colleghe ho notato che lei nelle occasioni che veramente contano non si fa nessun problema a giobbare e è vero uno mi può dire ha vinto già tutto Becky e io vi dico vero ma penso ad altre e ad altre persone o ad altri lottatori anche in passato un job così o per più anni di fila non lo darebbero mai mi ricordo un bellissimo match contro Bianca Belair a Restor Media 38 dove è stata Becky a volere tutta quella storia dopo SummerSlam e adesso Ria Ria questa vittoria le serviva veramente e Becky era l'avversaria per lei forse più importante per dire finalmente sono la più dominante della divisione e quindi vorrei fare i complimenti a Becky e a Ria per tutto il suo regno e il match poi abbiamo già detto tutto del main event della notte della notte 1 forse non abbiamo detto che The Rock ci ha un po' sventito tutti ecco e ho visto più bloodline rules questo match nella notte 1 che il main event nella notte 2 o meglio ho visto un The Rock rules che mi è piaciuta questa cosa nel senso quando ha detto all'arbitro se conti sei fuori ti licenzio l'ha resa molto a loro favore ed è quello che questo The Rock ci stava raccontando io posso fare quello che voglio ed è stata poi impattante la vittoria su Cody sono sono d'accordo il fatto di schienare Cody per renderlo un po' più meno forte agli occhi nostri agli occhi dello stesso Roman Reigns che dice nella notte dopo potrei batterlo facilmente e poi abbiamo abbiamo appunto la notte 2 la notte 2 che a parte forse il 3 contro 3 non non ha avuto veramente dei punti deboli e quindi quindi sì il main event ne abbiamo già parlato molto e io vorrei ricollegarmi un attimo al discorso che ha fatto Paolo su Seth Rollins perché nei vari promo Seth ha detto un'altra frase a Roman che è io conosco il tuo vero punto debole ed è una cosa che non hai mai superato e faccio un salto indietro di due anni vado alla Royal Rumble 2022 quando Roman affrontò e attenzione non sconfisse proprio Seth freaking Rollins che in quell'occasione entrò con la theme song dello shield e la tire dello shield e già lì Reigns è andato in difficoltà quindi il fatto che Rollins sia sempre nella testa di Roman Reigns lo rende veramente forse l'avversario più grande l'avversario che Roman in realtà faccia più fatica a battere e secondo me è proprio Seth Rollins che ha reso nelle due notti ancora più epica la vittoria di Cody e infatti bellissima la stretta di mano perché perché è così è stato un riconoscimento fra due grandi rivali perché Seth è anche ricordiamo 3 a 0 contro Cody ha sempre perso e adesso è stato lui parte della sua vittoria ed è stato veramente un bel momento sono contento per Logan Paul se non mi sbaglio ha sempre perdonami se non mi sbaglio anche Roman ha sempre perso contro Seth esatto esatto quindi io io in quella sediata ho visto veramente tutta la psicologia che c'è fra i due e personalmente oltre a tutto l'overbooking Sina io sono cresciuto con John Sina cioè il primo ricordo è lui che vince il titolo contro JBL e tutto il resto però quel momento è stato veramente impattante perché è quel momento che ci ha fatto dire ok vince Cody perché Roman si è totalmente disinteressato di Cody Rhodes del titolo in quel momento non gli interessava più nulla e poi tutto tutto il resto quindi io promuovo questa Breastlemania a pieni voti forse io non sono uno di quelli che dice un main event da dieci ok però sì un voto alto assolutamente un overbooking anch'io me ne aspettavo di più devo dire la verità però queste sono le mie impressioni generali e torno un attimo indietro su Jade Cargill visto che su Zona Wrestling mi occupo anche dei report dell'AW degli show io mi ricordo che in AW un errore che hanno fatto con Jade è stata proprio spingercela a forza cioè una che un'altra ti dice che non lo era che era veramente molto acerba ce la spingevano come dominante e molti dei suoi match purtroppo a mio parere personalissimo sono stati veramente pessimi e invece trovo giusta come la sto usando la WWE ovvero col contagocce ha fatto 3-4 mosse comunque nel match come dire la risolvo io come dire io mi sto ancora allenando arriverò e secondo me Bianca Charlotte possono fare comunque grandi cose con lei e quindi promuovo in toto WrestleMania e tutto tutto il resto sicuramente sì la scelta di utilizzare Jade Cargill in questo modo è per completare una formazione per per l'atleta che di per sé dovrà rappresentare i prossimi anni della compagnia ora non so bene l'età di Jade Cargill ma ad ogni modo sicuramente non è in WWE per stare sì e no un paio d'anni ecco quindi mi auguro che tutto tutto questo processo la porti ad avere ad avere successo il successo che merita logicamente perché a livello scenico c'è poi a livello atletico bisogna portare delle migliorie come giusto che sia da due anni mi dice il buon Bress grazie grazie mille a giugno 32 giugno 32 che dire è stata per me è stata una Bresselmania più che sufficiente anzi molto buona mi è piaciuto molto nella notte 1 l'incontro tra Rarie Play e Becky Lynch una cosa della notte 1 che non mi è piaciuta è stato il match tra Gunther e Samy Zain bell'incontro però mi aspettavo che vincesse Gunther e non Samy Zain adesso vedremo nelle prossime settimane e spero che Samy Zain abbia un buon push perché battere Gunther vuol dire tanto per me quindi spero che le usino bene questo Samy Zain che è riuscito a battere Gunther il main event della notte 2 mi è piaciuto tantissimo mi sono commosso alla fine vedere cose trionfante altre cose che non mi sono piaciute è stato l'incontro tra AJ Style e LA Knight potevano farlo meglio secondo me gestirlo meglio e il main event della notte 1 pensavo qualcosa di migliore invece niente non 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 mi è piaciuto moltissimo come l'hanno gestito a differenza della notte 2 che ovviamente è stato qualcosa di veramente fantastico e basta gli altri match bene o male tralasciando lo street fight che non è stato tutto gran che gli altri mi sono piaciuti abbastanza tutti quanti beh ribadiamo che è stata una una WrestleMania che ha fatto la storia ma aggiungo una cosa il match tra Drew McIntyre è Seth Rollins mi è piaciuto come è partito subito spediti sicuramente Drew McIntyre si riprenderà il titolo in Scozia quello che ci stiamo ci stiamo augurando mamma mia se non succede non lo so credo comunque credo comunque ragazzi sia l'ennesima conferma del fatto che Drew abbia rinnovato quella compagnia ora non so se c'è stato in merito un annuncio ufficiale però insomma è sul poster di in teoria era il storyline in teoria era il storyline cioè se lui non avesse vinto il titolo a Mania l'aveva detto in un'intervista non ricordo dove lui non avrebbe il problema è che lui il titolo l'ha vinto e che poi l'ha perso subito dopo poi l'abbè è quella un po' la fregatura però parliamo appunto ecco ancora anche Mago Merino ci dice ancora nulla di nuovo sulla situazione di contratto parliamo proprio di questo match un secondo Drew McIntyre contro Seth Rollins l'incasso di Priest cioè cosa viaggia perché noi fino a settimana scorsa eravamo qui a parlare del fatto speriamo che Priest non incassi o perlomeno speriamo non facciano cavolate e quant'altro di per sé qualcosa di buono l'hanno fatto con questo incasso perché hanno hanno girato lo stupore totale è il secondo incasso nella storia che avviene a Wrestlemania dopo quello di Wrestlemania 31 di Seth Rollins il caso vuole che in questo caso in forma indiretta è stato coinvolto Seth Rollins come accadeva con Edge fino ai primi 5-6 Money in the Bank fino ai primi 5-6 incassi dove era sempre coinvolto in modo diretto o indiretto all'interno di un incasso anche di un'altra persona ad ogni modo c'è secondo voi Priest con questo titolo quanto dura prof? ma non lo so quanto dura però forse regge fino Backlash e poi vediamo come dicevo prima ci sono talmente tanti eventi europei che rischiamo a Bashat Berlin di avere due campioni massimi europei cioè rischiamo di avere Drew da una parte e Gunther dall'altra perché Gunther secondo me si va a prendere il titolo di Cody anche chi lo sa magari proprio con il Money in the Bank come dicevo settimana scorsa il discorso Priest è interessante perché la WWE soprattutto per questa edizione ha fatto tanto casa ai numeri e un campione ispanico massimo proprio di Porto Rico non c'era da Pedro Morales che sono sono 53 anni che non vinceva il titolo massimo quindi su queste cose la WWE sta veramente tanto puntando e vediamo io mi aspetto o almeno è quello che vorrei una ribellione stile Evolution su Priest almeno per per il breve ossia un Balor che dice sono io fino adesso avevo il titolo di coppia con te adesso tu che ce l'hai lo voglio per me il titolo magari lo lo cacciano cose simili sarebbe sarebbe carino interessante vediamo Paolo allora ho avuto già modo di esprimere la mia opinione in merito perché io credo che questo incasso sia perfettamente funzionale ad alimentare appunto la rivalità tra CM Punk e Drew McIntyre perché chiaramente con ciò che è accaduto con CM Punk che letteralmente è costato il titolo a Drew McIntyre la rivalità tra i due cresce ulteriormente ed esponenzialmente quindi per me è tutto giusto si è finalizzato ad una nuova vittoria da parte di Drew McIntyre in Scozia evento quello Clash of the Castle che è cuscito su di lui praticamente cioè non vedo un'altra ragione logica di istituire un pay per view in Scozia se non appunto in centrale su Drew McIntyre una sua vittoria quindi ripeto per me giusto incasso bellissimo momento mi ha dato una grande adrenalina il tutto la vittoria di Drew mi ha emozionato tantissimo perché come Aldo lo aspettavo praticamente da 4 anni io amo Drew McIntyre sono stato anche a Clash of the Castle anche lì mi avrebbe fatto piacere vederlo vincere anche se comunque sono stato contentissimo della vittoria del Triple Chief che ho sempre supportato e per quanto riguarda il resto quindi era proprio un qualcosa che sentivo dentro appunto il vedere Drew vincere e terminare questa sua storia un po' come Cody e quindi davvero mi sono emozionato sono state emozioni proprio sincere quelle che ho provato ed è un opener che mi ha dato tanto mi ha rettrizzato veramente secondo me uno dei migliori opener delle ultime edizioni di Wrestlemania questo qui tra Drew McIntyre e Seth Rollins e anche l'incasso ha contribuito a rendere il tutto ancora più speciale però ripeto il tutto è giusto se finalizzato da una nuova vittoria di Drew McIntyre perché lì è perfetto praticamente perché Drew appunto che rinvince il titolo alla rivalità con Sien Punk che si è riaccesa Prista ovviamente lo vedo come un campione estemporaneo perché chiaramente negli ultimi mesi con tutte queste cose che sono accadute con l'avvento di Sien Punk con altre stelle appunto in piani elevati uno come Prista avrebbe trovato poco spazio appunto nella stratosfera per quanto riguarda la zona main event quindi io credo che il suo legno sia abbastanza estemporaneo cioè questo spiraglio l'ha trovato adesso ma non vedo appunto un regno lungo da parte sua lo vedo come un campione di transizione e ci può anche stare fondamentalmente e mi fa piacere che almeno quest'anno l'incasso sia stato comunque valorizzato nel migliore dei modi poteva starci anche perché comunque Prista ha avuto degli screzzi con McIntyre in passato proprio relativi anche al Money in the Bank con Prista che era costato la sua interferenza aveva fatto sì che McIntyre non vincesse il titolo contro Rollins a Raw Day 1 lo stesso Prista ha avuto screzzi anche con Rollins quindi diciamo che la questione era comunque accesa tra i tre quindi ci sta che il tutto sia poi culminato a Presselmenia con questi semi che un po' erano stati piantati e a proposito di semi piantati comunque abbiamo visto un Prista nelle ultime settimane a Raw più dominante rispetto al solito cioè l'abbiamo visto in crescita quindi già da questo si poteva intendere una cosa infatti io da quando ho visto l'evento in Scozia annunciato e quindi già mi era balenato un po' in mente l'idea che Drew avrebbe potuto perdere e poi rivincere il titolo vedere un Prista più dominante negli ultimi episodi di Raw perché abbiamo visto appunto in uno dei 3 o 4 contro 4 prima di Raw ha praticamente vinto da solo cioè nelle fasi finali mettendo K a tutti i suoi avversari quindi vedere un Prista in crescita vedere un evento in Scozia che fa presagire ad una nuova vittoria di Drew mi ha fatto un po' ballare in mente questo scenario che per me è quello più accreditato e quello che accadrà a mio avviso e comunque tantissima attesa poi per lo scontro che avverrà con CM Punk in un eventuale summer sempre perché sanno davvero costruendo una rivalità fantastica Drew tra l'altro non so se avete notato ha tweetato durante il match di Wrestlemania proprio in quel momento lì quando ha preso il suo cellulare passato gli dalla compagna ha tweetato in quel momento ha detto sono annoiato sul posto di lavoro è geniale quindi davvero è on fire quindi per quanto riguarda la sua situazione non è un caso non è un caso che abbia vinto il premio di Social Star of the Year negli Slam Awards andati in scena poco prima di Wrestlemania tra l'altro premio rubato da Chelsea Green ricordiamolo direi 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 abbastanza meritato come riconoscimento comunque per il contratto sicuramente rinnoverà con la WWE non vedo perché valorizzare al massimo un atleta del genere se poi non si sa appunto il suo futuro o meno cioè nel senso la WWE è una promotion comunque intelligente che coltiva quelle che sono le sue risorse umane chiaramente sapendo che un determinato nome X non andrà a rinnovare con te non gli fai vincere il titolo la pressa di mira non gli costruisci questo intorno quindi non ho alcun dubbio al riguardo certo Marco allora mi ricordo un secondo l'ultima cosa che ha detto Paolo io sono convinto che con quest'ultimo periodo la WWE sia più interessata a mantenere i suoi prospetti rinnovando i contratti tenendoli caldi sapendo il loro valore a livello sia di quality che a livello di quello che possono generare a livello di intro che non andare a fare spesa altrove quindi meglio tenersi caldo quello che hanno che non andare a spendere inutilmente andando invece sul discorso incasso bene che ci sia stato sia perché ha messo anche fine a tutte le congetture che giravano dietro la valigetta sia del incasserà non incasserà sia del c'è stato un periodo in cui giravano le congetture ma ci sarà dentro davvero il contratto la valigetta secondo me è stato fregato da Ballor secondo me è stato fregato da qualcun altro niente di tutto questo la valigetta era una valigetta legittima prista ha incassato nel momento più giusto da bravo opportunista diciamo e tutto tutti i pezzi che si sono stati sparsi in questi in questi match in questi incroci tra Rollins McIntyre Judgment Day Punk andranno verso un grande una grande un bigger picture diciamo così facendo una citazione dannata la bigger picture e anch'io penso che si vada verso un Drew McIntyre che si riprenderà il titolo in Scozia e volendo ragionare a lunghissimo termine ma con quello che sappiamo adesso per cui inutile prevedere quello che può succedere ma in teoria il ciclo naturale delle cose vorrebbe Drew contro Punk e poi Punk contro Rollins tra un anno quindi da qui a un anno nessuno di noi è la sfera di cristallo per capire cosa può succedere però in teoria se non ci sono ostacoli lungo la strada di nessun genere questo dovrebbe essere il destino di questa di questa storia per questo lo vedo come un campione anch'io di transizione ma che possa star farsi valere diciamo non penso che perda la prima difesa ma che saprà saprà il fatto suo a meno che non venga sabotato dall'interno appunto come dicevate dallo stesso dallo stesso Ballor o anche dagli altri elementi di Edgeman Day allora che possa essere sabotato è una cosa che mi aspetto sinceramente perché in particolare Ballor comunque ha perso tutte le sue occasioni per conquistare il titolo Priest in fin dei conti questa è stata la sua seconda occasione in carriera perché la prima fu in un one on one contro Rollins di qualche mese fa se non erro quindi nella sua seconda occasione seppur sporca ci è riuscito prima o poi qualcosa accadrà poi abbiamo visto comunque J.D. McDonagh che è e sarà sempre dalla parte di Finn vediamo un po' cosa accadrà anche perché sul contratto di Finn anche lì credo non ci siano aggiornamenti in merito sapevo che era in scadenza tra qualche mese se non addirittura proprio in data ravvicinata ecco diciamo così vediamo vediamo un po' cosa cosa accadrà certo è che dal punto di vista Monday Night Raw tra questa questa circostanza Drew McIntyre CM Punk e Damien Priest e quella per il titolo intercontinentale come ci ricorda anche Mirko in chat si prospetta molto interesse che poi piccola domanda che giro avvale per fargli continuare anche il discorso Drew forse adesso la WWE vuole virare l'attenzione del suo show principale quindi rendere il suo show principale non più Smackdown ma Raw anche a causa dell'accordo con Netflix tra l'altro Cody Rhodes è di Raw quindi addirittura ad oggi ha due campioni nel suo roster anche se formale di visione contro come in due di briscola e poi se non vado errato penso che a breve forse dopo Backlash ci sarà un nuovo draft infatti pensavo adesso chi può andare contro Priest perché Priest è il il top face a Raw non ne vedo a meno che un rientrante Bruno Strowman o magari Jay Uso o magari sì o magari comunque tutta la prestità di transizione oppure ecco quindi stavo dicendo magari la sfida interna al Judgement Day perché penso che ad oggi i nomi che abbiamo in ballo chi può spodestare le Priest probabilmente come dicevo prima un Joe McIntyre che è anche lui e il tranne che in Scozia e quindi penso che sia questo lo scenario che possiamo aspettarci però ecco sull'importanza di Raw diciamo che SmackDown era retto da Roman Reigns Roman Reigns adesso non c'è più e quindi è facile immaginarsi che sarà lo show di punta però ripeto c'è da capire un po' come assegneranno i vari campioni e i vari roster perché appunto abbiamo Cody e David Priest che il gioco forza dovranno in qualche modo andare da una parte o dall'altra e lì secondo me vedremo quale sarà il roster predominante perché se Cody va a SmackDown è probabile che SmackDown continui a tirare la sua al contrario allora sarà sperata per Joe un bel punto allora io sul incasso di Damien Priest ho le tue stesse sensazioni Aldo non io lo trovo un po' me mi ha lasciato un po' così soprattutto guardando Drew guardando la reazione permettetemi la parola genuina che ha avuto quando ha vinto che tutto era tranne che da Hill ma lo capisco vincere il titolo finalmente davanti a un pubblico anche per per Drew ha significato veramente molto ed è vero poi possiamo criticare anche il fatto che sia andato a provocare punk che comunque sia tornato nel personaggio permettetemi le virgolette e poi un incasso di Damien Priest che sì funzionale per far tornare Drew campione in Scozia bello però a me Damien Priest come Mr. Money in the Bank non ha mai compito e purtroppo questa è la mia la mia personale opinione e da campione mondiale non lo vedo per quanto sappiamo che quella cintura sia la cintura dei numeri due come diceva il Tribal Chief quindi non so ho delle emozioni contrastanti forse avrei preferito avrei decisamente preferito una vittoria pulita di Drew piuttosto che l'incasso di Priest e sono curioso sono curioso di vedere stasera Raw sono curioso di vedere come gestiranno la cosa trovo forse ecco un'incongruenza logica nella storia perché se non mi sbaglio lui ha discorso a Raw ria replay e si era arrabbiata proprio con Damien Priest che aveva già buttato lì l'idea di fare qualcosa di grande a a Wrestlemania e poi ieri a festeggiare tutti insieme a meno che non sia proprio un preludio a a un Evolution 2 dove il Judgment Day caccia Damien Priest però io l'incasso personalmente non l'ho trovato proprio così esaltante non l'ho trovato un vero e proprio Wrestlemania moment decisamente più che altro sembra sembra che la Judgment Day vinca premi perché è l'unica stable che c'è in giro al di fuori della bloodline cioè nel senso sembra che si dia importanza a questa stable perché di per sé è l'unica fazione che c'è in quel di role lasciamo perdere quelle comedi o quelle di seconda terza fascia cioè obiettivamente di prima fascia è l'unica che c'è quindi non lo so allora da quando hanno cacciato Edge per mettere Balor come leader che poi in verità alla fine non è mai stato lui il leader Maria non non ne hanno colta una in un certo qual modo così come dare la valigetta a prima che dietro la valigetta ad un uomo che non era over quanto magari lo era LA Knight e faccio sempre un esempio una delle tante supposizioni fatte anche in passato cioè voi immaginate un LA Knight che si fa tutto un percorso da Mr. Money in the bank e poi va ad incassare quella valigetta cioè se la reazione di Priest è stata top immaginiamo quella per LA Knight che per quanto non sia un signor wrestler perché non lo è mai stato cioè per chi lo conosce come Eli Drake non è mai stato un grande wrestler però guardate che ovazione si è preso e se il match contro AJ Styles è stato buonino mettiamola così ne parlavamo anche ieri notte Umberto sulla chat di zona wrestling cioè se è stato diciamo buono ecco io sono dell'idea che gran parte del merito sia di AJ Styles perché come si dice sempre il wrestling è una danza che si fa in due c'è uno che regge i fili del gioco e l'altro invece che comunque deve stare a quel comando e deve saperci stare logicamente quindi ha sicuramente anche lui i suoi meriti ma è un discorso che poi si può allargare a tanti altri wrestler l'abbiamo fatto già in passato questo discorso più volte quindi per me l'errore di fondo è stato proprio fin dal principio dare la valigetta a lui come hai appena detto però insomma vediamo adesso per stanotte come aveva girato anche il messaggio Matteo nella chat privata cioè si prevede un nuovo record di presenza in quel diro è la seconda volta che viene battuto il record dopo cinque anni perché l'ultima volta c'eravamo noi lì quindi insomma è importante come cosa fa capire che il prodotto c'è che il prodotto c'è e che non ha bisogno di far vedere scontri nel backstage nel suo programma settimanale di punta per farsi vendere ecco mettiamola così Samu riguardante l'incasso ma nonostante non mi sia piaciuto l'incasso per me hanno fatto bene perché serve a scrivere la storyline tra Drew McIntyre e CM Punk adesso non so quanto CM Punk starà fuori non mi ricordo quanti mesi però magari potremmo vedere un Drew McIntyre contro come diceva Paolo prima un Drew McIntyre contro CM Punk a Summerslam quindi secondo me è stato un incasso giusto nonostante non mi sia andato giù a me e a molti altri è servito più che altro a a far scrivere la faida tra tra CM Punk e Drew McIntyre qui invece per esempio come ci dice Manuel in chat dice io mi sarei aspettato dei benpristi incassati su Gunter o Zain per il titolo intercontinentale qui per fortuna non hanno fatto la frittata perché altrimenti sarebbe stato peggio di di quanto visto con Austin Theory eh un annetto fa insomma proprio riguardo il titolo intercontinentale allora sappiamo che Kevin Owens non è riuscito nella stessa impresa di Zain io sinceramente dopo aver visto preingresso di Owens quel segmento con Zain ho detto ok magari azzecco cioè della Night Q io non ho azzeccato quasi niente comunque di pronostici tolto ciò eh non è stato come ci aspettavamo eh Logan Paul ha difeso il titolo degli Stati Uniti invece per il titolo intercontinentale seppur sia stata una storia venuta fuori in corso d'opera perché sappiamo che il piano originale prevedeva Brock Lesnar contro Gunther alla fine hanno saputo raccontarci tutto alla perfezione hanno saputo portarci in mano la vittoria di Semi Zain e soprattutto confermo la tutto tutta la storia della Bloodline tutto il percorso della Bloodline è quel qualcosa che ti ha portato Semi Zain over per due Versaelmania consecutive cioè noi ci siamo arrivati a questo tipo di gestione con Semi Zain grazie alla Bloodline c'è poco da fare parlano i numeri parlano i fatti perché due anni fa Semi Zain era a lottare un match alla J.C.S. una sottospecie di attore quindi Knoxville esattamente non so è classificabile come attore Knoxville chiedo chiedo perché insomma non credo sia un Matthew McConaughey ecco mettiamola così quindi ripeto l'ennesima conferma di essere arrivati ad un qualcosa di importante grazie ad una storia ben scritta ed eccoci qui Semi Zain batte Gunter regno da 666 giorni il più longevo nella storia per quanto riguarda il titolo intercontinentale e adesso c'è Semi Zain campione intercontinentale e Gunter libero di andare a prendersi magari un titolo mondiale quindi il main event in vista soprattutto di quale evento Bash in Berlin prof eh sì Aldo io l'ho già detto secondo me la scrittura del titolo intercontinentale è abbastanza scontato cioè credo che il prossimo avversario di Zain possa essere Gable proprio per continuare questa situazione che loro stavano avendo nelle ultime settimane e ecco sì c'è la speranza che ehm possa esserci qualcosa di interessante per Bash in Berlin e questo ti fa anche un po' capire l'obiettivo della Tabita Blink che non è un qualcosa a breve termine ma loro ci stanno puntando su questi eventi per loro è un qualcosa di importante e forse tolto la Francia perché non c'è un vero e proprio rappresentante francese sugli altri eventi quando si spostano c'è sempre qualcosa su cui puntare tanto che poi alla fine vada a tirare tanto 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 pubblico e io mi volevo collegare a quello che stavi dicendo te perché quella cosa che volevo dire io prima su Reigns si collega strettamente a quello che hai detto te prima qua si dice ha salvato la WWE da una grande caduta perché? perché sotto Covid la WWE era una situazione molto complicata senza spettatori Kevin Owens Sammy Zane gli Usos e Cody Rhodes e altri sono stati elevati tanto ha sempre dato il migliore intrattenimento ha sempre fatto le migliori lotti possibili che lui poteva dare ha avuto probabilmente il regno più grande della WWE e questo credo l'ha detto l'ha detto Cody stesso ed è un qualcosa che sicuramente noi lo possiamo allora non riconoscere questo significherebbe avere il paraocchi e significherebbe non avere un'opinione oggettiva delle cose significherebbe giudicare probabilmente con troppa rabbia e con l'essere troppo fan di altre federazioni qui non stiamo facendo il tifo per la WWE stiamo parlando logicamente di quello che è l'evento più importante dell'anno ma perché più importante dell'anno perché è inutile negarlo nessun evento tira come WrestleMania nessun evento in generale cioè tu puoi prendere Revolution per la AEW puoi prendere Bone for Glory per la TNA puoi prendere Wrestle Kingdom per la New Japan non esiste un evento capace di tirare di creare di generare tutto ciò che genera WrestleMania ma in tutta la WrestleMania week prima c'erano gli access ora c'è il WWE World quella è un'esperienza è un'esperienza che tante altre federazioni non ti donano e non ci si avvicinavano nemmeno ma neanche quelle cose di WrestleCon come l'abbiamo l'abbiamo visto noi quando siamo andati ad Starrcast ma l'abbiamo vissuto l'elite era inguardabile l'abbiamo vissuto lo ha vissuto Marco lo ha vissuto Vale cioè nel senso lo abbiamo vissuto il concetto vero è proprio palpato il concetto di WrestleMania week e anche anche la ringofono della New Japan a suo tempo quando siamo andati al Garden c'è qualcosa di improponibile al punto di vista organizzativo cioè qualcosa di improponibile pagare un ingresso per fare cosa per guardare in faccia la gente per il nulla cioè nel senso ma questo come tante altre cioè pagare un party pre-show sì ma di cosa cioè se io mi devo andare a fare il buffet per mangiare due 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 cazzarelli cioè a me non mi servono non mi serve pagare per andare a mangiare due rustici mettiamola così il wrestling è fatto d'altro e l'esperienza che ti crea che sia un access o WWE World insomma come come lo hanno chiamato adesso ma l'intera WrestleMania week l'aria che respiri è totalmente diversa e poi credo che sia in ogni città Vale e Marco sono stati a più edizioni in città diverse quindi credo possono confermare questo cioè è un qualcosa di superiore e così come superiore è stato il regno di Roma Reigns ma non soltanto il regno ma tutta la storia che ripeto è finito il regno ma non la storia cioè è un qualcosa di totalmente diverso di tanto grande noi siamo partiti forse si presume da un esperimento in pieno covid un esperimento che ha fatto scoppiare il web perché in quel momento poteva far scoppiare solo il web dato che non c'era pubblico dal vivo per arrivare a tutto questo oggi se c'è stata un'attenzione mediatica così grande un'attenzione totale verso Roman Reigns contro Cody Rhodes nel Medi20 verso il Medi40 è stato tutto grazie alla storia della Bloodline per non rimarcare poi un altro concetto che andremo ad approfondire più tardi e che abbiamo espresso più volte The Rock è stata la benedizione di Cody Rhodes comunque prego continuate continuate il discorso no 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 finito 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 Paolo riguardo Gunter il titolo intercontinentale questa situazione qui giusto? sì 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 esattamente allora poi vabbè dopo avrò modo anche di parlare del discorso che hai fatto tu perché c'è una parentesi inerente alla storia Bloodline e la grandiosità di questa per estermine che vorrò approfondire però mi concentro prima su questo argomento qui per quanto riguarda appunto la situazione di titolo intercontinentale io credo che abbiano davvero costruito uno degli upset più grandi probabilmente della storia recente di Vresselmenia perché parliamo di un regno di più di 600 giorni che va a terminare appunto in questo modo con una storia da underdog che secondo me poteva anche essere valorizzata meglio perché a questo punto dato che le intenzioni erano quelle di far vincere Semi Zain potevano valorizzare meglio questa sua ascesa verso il titolo e non concentrarsi esclusivamente con un discorso di poche settimane fondamentalmente in questo percorso con Chad Gable cioè secondo me se appunto il fine di questa storia la vittoria di Semi Zain dovevano valorizzarlo meglio ecco da questo punto di vista il finale è stato straordinario quando hai effettuato il brainbuster sul turnbaco lo sono impazzito praticamente come momento in sé e tutto il resto molto significativo e davvero Semi Zain parlando di storia della bloodline di quelli che sono stati elevati Semi Zain ha avuto uno stravolgimento totale nella carriera viene da un menemente di pressemina lo scorso anno quest'anno ha ottenuto una vittoria monumentale perché battere Gunther il partito intercontinentale è un riconoscimento di un peso specifico altissimo praticamente cioè si sta rendendo protagonista di una carriera da all of fame quasi semi Zain in divenire praticamente e lui come tanti altri sono solamente è uno dei tanti esempi appunto di come i performer coinvolti nazionali della bloodline siano stati elevati alla massima potenza per quanto riguarda Gunther chiaramente questa sconfitta non va a minare quella che è la sua credibilità anche perché comunque il messaggio che è stato venduto in questo match è comunque anche il fatto che Gunther abbia sottovalutato in un certo senso Semi Zain quindi fondamentalmente la causa della sua sconfitta è stato questo un eccesso appunto di superbia tornando al discorso di prima come diceva il prof come questo Phil Rouge di Wrestlemania rimane comunque un performer validissimo che viene da un regno di 600 giorni con una credibilità incredibile e anche io credo che andando molto ma molto ma molto inoltre con i mesi Gunther possa essere colui che magari può andare anche a detronizzare Cody Lutz perché se noi adesso andiamo a ragionare sui nomi attualmente presenti nel rosso e la loro credibilità elevata Gunther sta nella stratosfera in quella cerchia lì di future stelle che devi consacrare nel tuo limpo attuale del breast quindi per me il futuro è radioso c'è anche l'evento a Berlino dove presumibilmente andrà per il titolo mondiale quindi o quello di Cody chiaramente o quello che sarà di CM Punk o ancora di Drew McKinney e poi chissà come andrà a finire chiaramente però il futuro è radioso chiaramente anche per Gunther che è una star incredibile poi parlando anche di mercato prima parlavamo del rappresentante ispanico cioè Damien Priest ma anche il brand WWE Deutschland va fortissimo sui social e tra i mercati esteri più potenti più forti e l'abbiamo visto anche appunto nei vari skybox di Vestermina con i collegamenti a Colonia in questa edizione cioè David Deutschland va molto molto forte e ci puntano tanto non è un caso che abbiano fatto appunto che abbiano organizzato un primo momento lì quindi avere Gunther come rappresentante di questa fetta di mercato che è comunque importante tra i mercati europei più fiorenti dal punto di vista cioè del wrestling anche questo non va assolutamente sottovalutato in una WWE attuale che tiene sempre di più eventi fuori Europa adesso cioè il prossimo evento negli States sarà praticamente SummerSlam adesso cioè considerando che c'è il trio anzi la combo tra Backlash poi si va in Arabia Saudita per King e Queen of the Ring poi successivamente avremo l'evento in Scozia Money the Bank in Canada quindi praticamente vedete quanti mesi non avremo pay per view negli Stati Uniti è successo anche l'anno scorso ovviamente una streak però adesso è ancora più elevato quindi in quanto rappresentanza anche da questo punto di vista si capisce per chi puntino su Gunter ed è una cosa buona e giusta perché un performer di questa credibilità e con un percorso tale con una crescita tale ce ne sono veramente pochi del suo livello quindi comunque è bellissimo per essere una moment perché hanno davvero creato un upset incredibile quindi mi ha molto emozionato tutto questo scenario che hanno creato bello bello poi la moglie è lì a Bordoringo e tutto il segmento prima di entrare cioè addirittura pare che stiano pensando per il 2025 non più e lei in Italia almeno ne stanno discutendo secondo le voci chissà chissà molto farà la reazione della gente in quel di Bologna vedremo poi se torneranno anche per ulteriori live event durante l'anno l'anno prossimo quindi chissà per il momento come dice come ha detto appena detto Paolo il territorio tedesco e ovviamente quello inglese sono sono i più caldi quello francese si sta scaldando pian piano però come detto anche da Matteo non c'è ancora un principale esponente che possa in un certo qual modo innalzare il marchio WWE rendendo la Francia orgogliosa di questo nome quindi vedremo poi con il tempo se ne verrà fuori qualcuno a meno che non lo so vogliono ridare il nome a Scarlett Scarlett Bordeaux e la girano come francesina questo poi lo scopriremo battute a parte Marco la tua opinione sul titolo intercontinentale e l'impresa di Zay allora mi ricordo l'ultima cosa che ha detto Paolo degli skybox di collegamenti dall'estero io spero che a breve nelle prossime Verstelmania ci siano dei collegamenti anche dall'Italia tutto dobbiamo vedere appunto come dicevi tu come andrà l'evento di Bologna e come andrà la differita di Verstelmania di settimana prossima in chiaro quindi se diamo delle risposte importanti dal punto di vista di ascolti e di calore magari abbiamo queste piccole cose anche nel nostro paese non sarebbe male vedere tra un Londra e un Colonia nei collegamenti vedere Bologna Milano Castelfilardo non lo so dovunque vogliono andare a piazzare le telecamere sarebbe una cosa bella anche per noi detto questo allora intanto non sono mai stato così contento di sbagliare un pronostico come il pronostico per il match per il titolo intercontinentale perché io davo Gunter come schiaccio a sassi la mia visione vedeva Gunter detronizzato solo da solo da Dragunov promosso nel main roster niente di tutto questo si è realizzato va benissimo così Sami Zayn è e resterà sempre uno dei miei preferiti dai tempi di El Generico che adesso ricordiamo è da aiutare gli orfanelli altrove sono stra contento della sua vittoria una lui mi mette una mi trasmette una carica mi trasmette una non so neanche come definirla qualcosa che ti fa venire voglia di andare a spaccare i muri anche se non hai il fisico adatto se non sei il lay player un po' come fu Daniel Bryan nella sua nella sua run di Verstel Media 30 Sami Zayn mi trasmette tutto questo la forza di volontà superare gli ostacoli anche se sei appunto l'underdog quello su cui nessuno scommetterebbe mai e riesci sempre a superare a superare gli ostacoli per cui una vittoria meritatissima e sono contentissimo di questa sua ulteriore consacrazione dopo quella dopo quella dell'anno scorso dovuto appunto come dicevate voi anche giustamente al suo percorso nella nella bloodline prima di prima tentato dal potere soggiogato e poi redento è meraviglioso non 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 perdendo neanche che faccia un regno lungo come quello di Gunther perché non succederà ma sarà un regno combattuto divertente me lo auguro si si prospetta una una faida con Gable all'inizio probabilmente come come amici nel sogno del rispetto nella sportività poi probabilmente Gable immagino tornerà e sarà comunque il classico discorso bene contro male ma ha fatto un gran bene a Sammy Zane anche tutto questa tutto questo percorso bloodline post bloodline e sono d'accordo con con ne sono detto che sta facendo una carriera dei non lo famere onestamente sono veramente contento perché temevo facesse una una finaccia nel mio roster per come è stato i primi anni non è stato trattato esattamente in maniera idilliaca e diciamo che un paio di anni fa forse erano in si vociferava che se lui che Owens se ne dovevano andare poi invece sono cambiate le carte in tavola da questo punto devo dire decisamente bene bene per loro perché se Owens ha fatto un main event di Verstermania contro Stone Cold di Austin anche Sammy Zane ha avuto un proseguimento di carriera di tutto a rispetto per cui impeccabile devo dire assolutamente un percorso come pochi capace di riprendersi per meglio dire come pochi altri Vale con questa sfida che incombe tra Semi e Chad Gable insomma dici un po' sì penso che sia nell'area perché comunque io l'ho anche detto Chad Gable poco prima del match contro Gunter fa il tuo che poi ci sono io e poi ecco tornando a Gunter penso che questo sia uno dei pochi casi che una sconfitta venga presa con il sorriso perché è comunque una sconfitta che vuole dire che adesso lui sembrava nei pieni alti quindi questo penso che sarà il futuro di Gunter per quanto riguarda appunto Semi Zane ottimo riconoscimento perché non vince semplicemente un titolo intercontinentale ma mette fine un regno epico quindi penso che è stato un po' un gettone dato gli anche e soprattutto per quello che ha fatto l'anno scorso prima Stelmania e adesso vediamo quello che sarà ecco c'è la parte e spero che Semi possa scavaccare questo ostacolo mi aspetto comunque un buon un buon regno lo spero per lui e per insomma per come ci è arrivato credo tu possa essere la persona giusta per rispondere a questo commento di Diegus dove dice ma solo io vedo la sconfitta un po' così torno a ripetere bravo Semi è tutto ma non è all'altezza di molti nomi che ha spazzato via sì questo è vero e ti dirò quando è finito il match mi aspettavo ok che poteva anche vincere Semi Zen però ecco mi si è aspettato forse più cannonato per buttare giù Gunter visto che insomma aveva sempre dominato contro tutto e tutti sulla carta Semi Zen non era forse l'arbrista più temibile e quindi ecco mi si è aspettato magari un successo più più faticato da parte di Zain così non è stato però però ecco secondo me è andato anche bene che questo match è avvenuto nella strada 1 di sabato dove tutto il resto lascia molto desiderare quindi forse vista un po' la concorrenza è sembrato anche meglio di quello che forse potrebbe essere comparato con l'altro match della domenica però ecco ripeto io quando ho fatto l'intro è stato uno dei match che ho messo tra i preferiti quindi ecco c'è stato molto 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 di peggio da condannare tra virgolette la night one infatti così passo ad Umberto ne avevamo parlato proprio proprio in chat è stata un po' la serata fanservice perché torto il main event l'opener alla fine mettevi d'accordo tutti indipendentemente dalla vincitrice per il resto è stato tutto un accontentare i fan per arrivare a determinate circostanze perché lo giro forse bisognava anche un po' compensare il fatto che il main event sarebbe finito in un determinato modo quindi quella determinata sera forse bisognava concedere un po' più ai fan per compensare con quel torto che tra virgolette saresti andato a compiere facendo vincere la broadline esatto anche perché abbiamo parlato in chat che un risultato fanservice lo abbiamo avuto proprio con con Juso nonostante il match non è didiaco no quindi io non dico che la vittoria di Semi sia totalmente fanservice ma dico che Semi è uno dei personaggi più amati in WWE ha avuto due WrestleMania moment di fila e come abbiamo detto l'anno scorso addirittura nel main event come lui stesso nel promo ha ricordato uno dei suoi migliori momenti io per Semi mi auguro forse una gestione migliore di quella che ha avuto l'anno scorso insieme ad Owens dopo il WrestleMania moment è vero che tutti coloro che si sono ritrovati in una faida col judgment day poi hanno faticato questo questo sì però Semi non si sa perché non si sa per come vive sempre queste montagne russe super bel momento di vittoria di gioia e poi un momento di down clamoroso e anche come è arrivato a sfidare Gunther l'ho trovato un po' casuale però poi il match nulla da dire il match comunque ho rivisto un qualcosa dell'underdog from the underground che resisteva a tutto quindi contento di di rivedere questo Semi Zane ottima la moglie con le sue espressioni facciali il coinvolgimento con Gunther che la provocava continuamente e e poi un finale che forse ci aspettavamo in pochi ed è giusto che sia così quindi forse non fanservice un pochino però bello però bello tutto nella nella news che ci aveva girato Giuseppe adesso non ricordo tanto salutiamo Giuseppe Calò nella news che ci aveva girato Giuseppe il producer il producer del match del continentale è stato dai vari se non erro esatto esatto ok 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 perché abbiamo visto cioè mi è capitata proprio adesso davanti agli occhi la lista di tutti i producer dei vari match di Wrestlemania jason jordan sean d'avari tj wilson ebis pt williams kenny della spirit squad jamie nobel molly holly harry kenelms e adam pierce ricordo che harry kenelms non ero ha gestito il triple treat per il titolo degli stati uniti ma c'è stato un'importante influenza anche di bobby rude che ha affiancato michael ace nei due main event sia quello della night one che nella night two e questo credo sia un insomma un privilegio per pochi perché sappiamo come michael ace abbia gestito gran parte dei main event nella storia della ww in particolare in show importanti come Wrestlemania quindi sa quasi di un affiancamento per poi fare un passing of the torch in futuro ed avere bobby rude magari a produrre effettivamente un determinato main event di di spicco e fa davvero piacere questo perché bobby ha sempre avuto un testa per il business ecco mettiamola così è un peccato che seppur possa non lotti più perché credo che in w abbia visto soltanto un decimo delle sue reali potenzialità per chi voglia recuperarsi tutte le sue reali potenzialità recuperatevi gli anni da hit factor perché no x factor attenzione hit factor tanta 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 roba Samu la tua opinione sul titolo intercontinentale ma non non mi aspettavo un finale così da una parte sono contento per semi zain perché ma si è fatto veramente una bella carriera negli anni ha dato l'anima ha dato il cuore però vederlo vincere contro Gunter per me non mi ha convinto moltissimo soprattutto per Gunter perché se poi andrà per il titolo massimo uno dei titoli massimi non lo so se perde credibilità o cosa sono un po' scettico su questo finale non me l'aspettavo magari potevano gestirla un po' meglio però mettiamola così io la penso al tuo stesso modo non per questo match e per questo titolo per tutt'altra circostanza ovvero il titolo finile non quello detenuto da Rhea Ripley ma quello ora detenuto da Bailey perché passando pirando un attimo al discorso donne sappiamo che con Rhea c'è della sicurezza bisogna soltanto avere la capacità di trovare delle sfide antidegne e forse il draft in questo potrà aiutare per quanto riguarda invece il lato Bailey cosa c'è di futuribile al di fuori di una di un continuo di faida con le damage control e soprattutto era necessario concedere ora la vittoria a Bailey quando magari si poteva allungare ulteriormente il brodo rendendo un po' più fatticcia questa faida al contrario di ciò che è stato dalla Royal Rumble ad oggi e quindi perché io personalmente parlo anche per gusto mio no io ho pronosticato io Sky come vincitrice ho detto io Sky mantiene in modo tale che poi si arriverà magari a backlash o in un altro evento in pay per view nei mesi successivi magari con una stipulazione dove Bailey prende e va a prendersi la cintura tra l'altro reputavo backlash la piazza ideale perché Bailey lo scorso anno rese proprio pubblico il suo pensiero riguardante la Francia il suo grande volere un pay per view in Francia cioè l'avere esposto più volte alla WWE stessa facciamo un evento PLE in Francia e quindi avevo reputato quel frangente come una possibilità in più così non è stato però la domanda che mi chiedo che poi sarebbe stata una domanda solo da posticipare in eventuale vittoria appunto più in là nel tempo ma con queste condizioni Bailey è la campionessa che può far fare sogni tranquilli la notte prof no decisamente no decisamente no è una campionessa in ritardo l'unico vantaggio che può avere a differenza di Ria ma io l'ho detto anche ad altre parti e anche in altre chat è che a differenza di Ria Bailey ha le sfidanti Ria in questo momento le sfidanti non ce l'ha quindi per fare buoni match ne ha e ne ha la possibilità perché SmackDown è veramente pienissimo di sfidanti per il titolo ne hai almeno 4-5 senza Charlotte che è ancora infortunata Ria invece rischia di fare il regno 2 di di Roman Reigns senza senza praticamente nessuna sfidante decente che può andare per il titolo sono curioso di capire se continueranno ancora un po' il discorso Damage Control che noi non abbiamo ancora capito realmente se con l'avvento della Polavec era o Triple H era come l'hanno definita ritorna il rematch per il titolo oppure è una cosa completamente abolita quindi sono curioso di capire se loro continueranno per un attimo ancora per un po' il discorso con le Damage Control e poi magari butteranno qualcos'altro proprio a favore di Bailey potrebbero anche girare un po' per esempio un giretto con Dakota Kai potrebbe una difesa titolata ci potrebbe stare tra l'altro potrebbe uscire anche un buon match però la situazione Bailey è un po' complicata e un po' confusionaria le possibilità ce l'hanno realizzarle è un altro discorso chiaro chiarissimo Paolo ma guarda secondo me per quanto riguarda la questione di titoli femminili molte risposte ce le darà il draft perché a breve ci sarà l'ha confermato Triple H lo scorso anno si è tenuto proprio nei primi di maggio quindi dobbiamo vedere un po' come sarà il nuovo landscape della dabitabilità da questo punto di vista perché al momento a SmackDown certo c'è una maggiore ricchezza dal punto di vista dei nomi e anche della caratura dei nomi però fondamentalmente da contrapporre a Bailey c'è nel senso di heal valide appunto nel lato femminile di SmackDown attualmente ce ne sono poche quindi anche a me mi viene da pensare che magari possono proseguire il filone con il damage control magari per un rematch per Backlash anche perché Backlash per Antonomasi è proprio l'evento in cui si tengono molti di match di Preston Mania quindi può essere sicuramente uno di quei casi ovviamente poi vedremo vedremo perché chiaramente tutte le avversarie di spicco a SmackDown sono Face Bianca Belerget Cargill Naomi quindi non le piazzerei contro Bailey attualmente perciò dicevo il draft sarà fondamentale dobbiamo vedere come si formeranno di nuovi roster mentre Ria Ripley appunto ecco per il discorso sempre di contrapposizione molte di quelle che hanno fatto bene nel 3-4-3 possono essere buoni avversari anche per Ria Ripley da questo punto di vista per esempio una Naomi potrebbe andare contro Ria Ripley per il titolo come un'avversaria molto valida di transizione in un eventuale draft che possono adottare e quindi questo è quanto perché per quanto riguarda il cioè nomi femminili il attualmente nel roster di SmackDown mi viene a mente solo Tiffany Stratton però ha bisogno di crescita non è pronta adesso ancora per il titolo quindi dovrà ancora crescere quindi direi rinvio il discorso al draft per vedere un po' quali sono le situazioni però a pelle annuso che possa esserci il rematch tra tra Bayley e Yo Sky a Backlash quindi mi sento di dire di dare questo pronostico per il prossimo per view intanto cambio un secondo argomento perché la WWE ha appena annunciato and it's been for me for you the WWE universe and for everybody that's going to tune in tonight for Monday Night Raw because we are less than a day removed from the biggest Wrestlemania of all time history made and stories finished tonight at the Wells Fargo it's the Raw after Mania which means what anything and everything can happen you never know who's going to show up and I'm not giving any spoiler alerts other than this the first hour of Monday Night Raw 8, 7 central on USA Tonight is commercial free and I can promise you this you're not going to want to miss it that is official bene sappiamo quindi sappiamo quindi che questa prima ora del primo Raw della nuova era perché sappiamo che comunque le stagioni della WWE hanno inizio e fine tra una Wrestlemania e l'altra inizierà con la prima ora commercial free quindi senza alcuna pubblicità un po' come gli anni di Donald Trump tra l'altro Aldo ieri durante anzi ieri stanotte stamattina durante il Pet McAfee Show o post Mania MJF è stato citato da da Cody Rhodes durante l'intervista così come Sina ha ribadito così come Sina ha ribadito che la fine della sua carriera a tutti gli effetti è sempre più vicina e già sono iniziate alcune speculazioni in merito alla possibilità di vedere la prossima Wrestlemania con tutta una costruzione in merito alla conclusione della crea di John Cena questo poi lo capiremo se non era ragazzi lì con Londra potrebbe proprio chiudere la carriera lì a Londra se dovessero fare non lo so perché mi sbaglio è la prima volta da 40 anni forse che non conosciamo la sede della prossima edizione di Wrestlemania una volta conclusa quindi perché di solito noi sappiamo che intorno a novembre barra dicembre annunciano la sede successiva addirittura nel periodo covid poi hanno annunciato le tre sedi successive in questo caso invece non ancora conosciamo quali saranno le sedi di Wrestlemania 41 42 e così via tanto ad aprile le nazionali non ci stanno manca a fine marzo che cosa scusi si può giocare a Wembley si può giocare a Wembley si può fare a Wembley non ti preoccupare a Wembley ad aprile si ma se parlare di l'egittura Philadelphia anche l'ontra ad aprile anche questo è vero anche questo è vero ci si copre ragazzi dai non lamentiamoci sempre ci si copre e basta tanto a Londra non piove esiste esiste il napapiri apposta ci si ci si mette il napapiri e e a posto magari quello contraffatto perché così almeno non non si spendono 4-500 euro e a posto così dai e viva il pezzotto scherzi a parte Marco io so che tu adori bene però mi viene lecito chiederti il tuo pensiero sulla situazione femminile dopo WrestleMania allora io eh sarà un po' basta incontrare sotto quanto è stato detto prima io credo che Bely possa essere la salve Simone la trascinatrice per quanto riguarda Smackdown della divisione femminile ah e ricordiamo che sta con lei che ha trascinato il titolo durante il periodo covid il periodo del Thunderdome se non c'era se non c'era Bailey erano erano cazzi amari perché non sapevano bene come gestire la situazione quindi perché non ripetere la cosa nel mondo reale con il pubblico nella realtà nelle arene e con i fan che sono pronti a sostenerti io il M200 ci riscommetterei probabilmente all'inizio dovrà disfarsi delle ex colleghe della damage control probabilmente come diceva anche Paolo prima con un rematch con New Sky e poi perché no pian piano con le altre se non voglio dire che per quattro mesi affronterà tutte una singolarmente ma una volta che si libererà di loro ci sarà poi il discorso draft e sicuramente delle altre avversarie e delle altre avversarie le trovano quindi io spero in qualcosa di eroseo per quanto riguarda Bayley la sua gestione e il futuro del titolo femminile del titolo femminile WWE per cui secondo me diciamo che non è stato la vittoria del titolo da parte di Bayley non è stata alla fine un caso finisce un mese prossimo lo perde di nuovo poi magari si è smentito subito però sarà veramente una nuova nuova era cioè se veramente si parla di nuova era deve essere in generale anche lato maschile lato femminile per cui si è stato deciso di dare il titolo a Bayley e perché c'è qualcosa di potenziale che sta cuocendo meno me lo auguro perché se lo meriterebbe per quanto mi riguarda lo spero lo spero perché come ho detto stima la scorsa il percorso per arrivare a questo match non mi è piaciuto spero che possano ribaltare la situazione nel post appunto per essere il menu vale ma nient'altro da aggiungere mi aspetto che a Backlash comunque vada contro Oyo Sky o comunque Damage Control poi secondo me molto sarà il draft di decidere quale sarà il futuro ecco perché ci possono restare anche promozioni di NXT penso che comunque è un nome che ti dà comunque sicurezza perché comunque Bailey come magari Charlotte come Ria Roma che anche Aska sono nomi comunque affidabili con una cintura c'è da capire per quanto possano però essere perché comunque molte poi hanno stata di scadenza e c'è anche da capire chi li mandi conto perché comunque come stavano dicendo Bailey viene anche già da un regno lungo pochi anni fa quindi molte comunque diciamo certo percorso percelo ha avuto vediamo se riuscirà comunque a mantenersi rilevante in quest'altra in quest'altra avventura isolata Umberto io sono sono d'accordo su Bailey poco altro da aggiungere lo vedo però come più un premio per quello che ha fatto dal suo ritorno in poi sempre pronta ad elevare le avversarie ha comunque preso delle sconfitte abbastanza pesanti se pensiamo che comunque è Bailey e adesso sono un po' curioso forse a backlash anch'io vedo il rematch contro io però bisogna aspettare il draft mentre su Ria Ripley io avevo come avevo scritto in chat durante durante la live di 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 scrivere le news avevo in mente magari un mezzo turn face della Ripley con un mezzo turn hill di Liv Morgan perché in questo momento è l'unica storia che vedo a Ro con Ria che si possa raccontare perché altro eravamo gli unici stronzi a pensare questo esatto esatto e da un lato di dico lo spero ancora perché vedo vedo Liv come come unica possibile sfidante in questo momento di Ripley e essendo anche fan di Liv un po' ci spero poi indipendentemente dal risultato Ria stavolta si può anche concentrare di più rispetto al sono la campionessa dominante perché comunque le due hanno un passato mentre su Bailey vediamo aspettiamo appunto il draft e spero che qualcosa qualcosa cambi quanto può cambiare il draft all'interno di tutta questa situazione femminile per te Samo ma non saprei dipende da da come andrà a perdere secondo me il titolo Bailey perché tornando al discorso di prima scusa se devi un attimo sono d'accordissimo con te per me ma non non ci stavo a far vincere Bailey in questo match è stato un bellissimo match a me è piaciuto molto però come dicevi te prima perde credibilità anche io sky quindi è tutto da vedere secondo me a backlash e scusami in merito al ragionamento che appena ha fatto chi può andare a strappare il titolo a Bailey secondo me secondo me io una rivincita di io sky ok quindi pensi che io sky possa andare a riprendersi la cintura ok secondo me sì ok anche anche per riprendersi un po' di credibilità certo certo vedremo vedremo se molto dipenderà anche dalla volontà di continuare o meno con le damage control in attività perché se non è Roaska voglio dire in me c'è stato sì 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 no no ma comprendo il tuo ragionamento qualcuno in chat mi maledice no 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 comprendo il tuo ragionamento ci sta poi è da vedere un attimo anche cosa ci racconteranno i Raw e Smackdown post-verstermania questo senza alcun dubbio va bene ragazzi allora torniamo a parlare di main event torniamo a parlare di ciò che è stato il codiroso contro Roma e Reigns anche per concludere il cerchio in via definitiva allora mi sono appuntato un paio di cose eh trentuno difese titolate mille e trecentosedici giorni di regno eh davanti ad un totale mischiando le due serate di centoquarantacinque mila duecentonovantotto persone eh si è concluso il regno di Roma e Reigns nella stessa città in cui è partita la sua run da main eventer ovvero quella di Philadelphia con la Royal Rumble 2015 nel West Fargo Center si va a concludere nell'Incol Financial Field eh sempre di di Philadelphia appunto un cerchio che si chiude in toto con tutto un capitolo Bloodline eh di cui abbiamo già parlato e per ritornare sulla tematica con un The Rock messo in mezzo perlomeno che si va a mettere lui in mezzo e a creare tutta una situazione che ha portato alla benedizione definitiva di Cody Rhodes perché dico questo perché ribadisco ancora una volta questo perché è facile eh tifare Cody perché vince la Rumble e vince ma sì Cody va a detronizzare Roma Reigns attenzione io rimango dell'idea che se Cody eh avesse fosse riuscito ad ottenere tutto ciò senza mettere in mezzo The Rock non sarebbe stato eh una vittoria dello stesso peso non sarebbe stata sentita come è stata sentita cioè l'avremmo percepito ce lo saremmo goduti ma non in questo modo qui perché come eh diceva anche Marco l'anno scorso Cody per arrivare a vincere quel titolo deve soffrire e deve soffrire tanto e lui ha sofferto per un anno e mezzo perché si è infortunato si è ripreso da un infortunio è tornato con il numero 30 nella Rumble 2023 è andato ad affrontare Reigns ha preso gli schiaffi ha avviato tutto un percorso di redenzione ostacoli su ostacoli tra cui superando anche Brock Lesnar è riuscito a rivincere la Rumble seppur con il numero 15 per quanto io sono sempre stato dell'idea che avrebbe dovuto vincerla con il numero 1 eh ad ogni modo vince la Rumble poi c'è quella situazione The Rock che anche lui stesso ha ribadito il piano originale era me contro Roman avrebbe essere meno 40 quindi sappiamo che effettivamente Cody Rhodes si sarebbe messo da parte per lasciare il suo spot a The Rock e poi andarsi a prendere la shot magari più in là o addirittura prendersi una shot contro Rollins questo non è stato chiarito ad ogni modo il piano originale prevedeva questo il pubblico ha detto la sua ha urlato a gran voce come nello Yes Movement è riuscito a far cambiare le circostanze le hanno cambiate e sono arrivati a tutto questo ma se oggi abbiamo sentito sulla pelle la vittoria di Cody e il e il completare il suo processo di redenzione lo dobbiamo a The Rock perché The Rock è stata ribadisco la benedizione di Cody Rhodes aggiungo sponda Roman Reigns eh oggi lunedì 8 aprile 2024 è facile andare sui social pubblicare la fotina e scrivere hashtag thank you Roman Reigns è facile per tutti per chiunque però eviterei che a farlo siano quelle persone che fino all'altro ieri erano lì a sputare veleno nei confronti di Roman Reigns magari può dar fastidio magari no magari può essere accettato magari no ma è un dato di fatto e parlano i numeri perché parlano i numeri dal 20 quando era 24 agosto 2020 23 agosto adesso non ricordo sì 23 agosto 2020 al 7 aprile 2024 parlano i numeri in forte crescita della WWE e non dovuti soltanto ad un aumento del prezzo dei biglietti ma dovuto a tutto il processo di quello che ha portato il regno di Roman Reigns la storia di Roman Reigns Roman Reigns è il got in questo momento è il greatest of all time per la WWE difficile accettarlo perché perché sappiamo che nel corso della storia abbiamo visto Hulk Hogan abbiamo visto The Rock abbiamo visto Steve Austin abbiamo visto Undertaker abbiamo visto Ric Flair è normalissimo quando stiamo facendo un paragone tra Roman Reigns e Ric Flair assolutamente no stiamo semplicemente o perlomeno io sto semplicemente sottolineando quanto quel nome sia stato capace di rafforzare una federazione un marchio per portarlo all'ennesima potenza all'ennesima evoluzione che poi lui sia stata solo una causa assolutamente lecito lecito pensarlo però è lecito altrettanto pensare da lo dico sotto il mio punto di vista ma credo che sia un'opinione condivisa da tantissime altre persone che tutta la storia della Bloodline da quando è partita ad oggi che sta ripeto sta ancora proseguendo è la miglior cosa scritta dalla WWE slash una federazione di wrestling qualunque da oltre 30 anni a questa parte un richiamo anche ai vari Danny wrestling a tanti altri creator che rispetto assolutamente sono serio rispetto senza alcun dubbio ogni tanto ci divertiamo a lanciarci frecciatine sui social perché ci divertiamo anche così perché vogliamo strappare anche un sorriso a chi ci segue però non possiamo parlare di ruthless aggression come la miglior cosa scritta non possiamo parlare di attitude dirà come la miglior cosa scritta perché per avere qualcosa di raccontato come si deve non lo si può paragonare con due donnine nude che si mettono due adesivi per coprire i capezzoli e paragonarle alla bloodline senza ombra di dubbio con tutto il rispetto paragonare sable a tutto quello che abbiamo visto certo voi mi potete dire ok c'è The Rock contro Steve Austin signora Faida senza alcun dubbio non lo metto in dubbio assolutamente ma poi dove ha portato Rock contro Austin ha salvato la WWE ok poi ha salvato la WWE contro la WCW poi quanto è durato è stato un inizio e una fine poi è questo il concetto qui invece stiamo parlando di un qualcosa che dura da quattro anni e che ha innalzato altre persone perché attenzione The Rock Steve Austin era incentrato su The Rock e Steve Austin oltre The Rock e Steve Austin cosa c'è stato chi ne ha beneficiato qualche nuova leva non mi pare qui invece stiamo parlando oggi di Semizene che si prende per due anni consecutivi il Wrestlemania Moment stiamo parlando di Jey Uso che fino all'altro ieri non sapevamo distinguerlo dal fratello perché erano due gocce d'acqua in tag team e poi alla fine è riuscito a prendersi uno spazio tutto suo e si prenderà uno spazio tutto suo ancora più più concreto così come tanti altri ecco quindi delle volte bisognerebbe innanzitutto pazientare fermarsi a riflettere respirare godersi il prodotto perché godendoti le cose con il tempo con la perseveranza si arrivano ad altre circostanze quindi questo è il primo punto perché non è che se oggi vince Beri oh no che palle adesso la 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 categoria femminile fa schifo al cazzo no non è così non è così perché magari questa vittoria di Beli che a me ha fatto magari storcere il naso per gusto mio potrebbe portare ad un qualcosa che mi piacerà ancora di più di come era ieri quando al comando c'era io Sky per fare un esempio quindi innanzitutto pazientiamo e oltre ciò cerchiamo di apprezzare le cose belle perché adesso se casomai Roman dovesse stare lontano per un annetto buono per fare un esempio io vi assicuro che già tra un paio di mesi vi mancherà così come tutti coloro che erano lì a dire a urlare Sina Saks Sina Saks per l'amor del cielo anche a me Sina ha fracassato i coglioni in un certo periodo di tempo il Super Sina del 2007 per dire ma allo stesso tempo ero lì a ribadire ragazzi quando Sina se ne andrà ci mancherà e adesso sono tutti lì ad urlare Sina Got Sina Got quindi un appello a tutti ai creator ai fan ai non so a tutti davvero un appello a tutti coloro che amano il wrestling abbiate pazienza e cercate di godervi le cose senza fracassare le palle Matteo so che ci devi lasciare quindi prego guarda io condivido appieno il tuo discorso ma lo sai Aldo di Reigns ne parliamo ormai ormai da anni sono quasi 4 anni che ne parliamo soprattutto del discorso tribal chief io come anche altri di voi abbiamo avuto l'onore Paolo se lo ricorderà di andarlo a vedere a Money in the Bank e voglio odiarlo quanto vuoi ma stai sempre lì a sostenerlo cioè raga è un qualcosa proprio che va va totalmente oltre io posso capire posso capire l'odio perché poi alla fine parliamo di odio tra virgolette di persone verso questo personaggio ma ricordiamoci tutti che questo personaggio è il e se si sta facendo odiare vuol dire che il suo lavoro lo sta a fare bene punto cioè è come il discorso di Charlotte che spesso abbiamo fatto tante altre volte eh Charlotte io non la sopporto perché puntualmente quando ritorna si va a prendere la title shot ma se è il fa quello che gli pare lo può fare lo può fare benissimo la WWE sa che se va su delay va sul sicuro poi alcune cose sono state dette in telecronica noi non sappiamo le condizioni fisiche di Reigns sappiamo che lui sta continuando a fare la chemio non la chemio classica cisplatino endovena ma sta facendo chemio a pillole quindi giustamente lui si è preso tanti tanti periodi vuoti e morti Aldo lo sa se lo ricorda bene sotto covid eravamo preoccupatissimi perché era proprio il periodo pieno della leucemia di Reigns e parliamo di situazioni molto complicate Reigns è una di quelle persone che tra qualche mese già ci manca già ci mancherà ora non dico che lo vedremo tra un anno direttamente magari per un match proprio non dico contro contro The Rock però per qualcosa di simile però ci mancherà e la WWE in questo momento è stata brava a costruire dietro persone che raccolgono il suo lascito e lo possono portare avanti perché se da una parte loro si trovano con un priest campione che sicuramente però perderà il titolo a favore di Drew ma poi Drew ha punk e tu contro Cody gli mandi Gunther cioè tu le possibilità già le hai fatte già le hai le hai costruite Logan Paul come diceva prima il ragazzo non avevamo parlato per niente di Logan Paul Logan Paul con che noi lo odiamo però Logan Paul il suo lo fa sempre poi vince perché deve vincere in quel modo perché è il però il suo lo sta facendo cioè vediamo tutti quanti quello che ha fatto con la sponsorship del Prime all'interno del ring è bruttissimo però sono soldi per la WWE la WWE ormai si sta vendendo a questo se voi ci fate caso lo diceva prima Vale con il discorso delle pubblicità il ring sta sempre più diventando la gabbia dell'UFC piena zeppa di pubblicità piena zeppa di fondi piena zeppa di marketing ma è giusto così è giusto che sia così deve esserci deve esserci un'evoluzione nelle cose perché altrimenti poi restiamo tutti quanti ai tempi della WWF dove attorno al ring c'erano le barricate di ferro che scavalcavano i bambini come succede in Italia cioè non ha senso però ecco la cosa interessante è quello che scrive Jerryson ci sarà la guerra per il nuovo Tribal Chief nessuno ha parlato nel main event della reazione che ha avuto solo Sicoa contro Roman Reigns per dirgli datti una mossa che devi andare a fare qualcosa non sono chiacchiere la WWE è tutto nuovo quindi bene così ma anche il discorso solo Sicoa in sé ti dico questo poi ti lascio andare perdonami anche il discorso solo Sicoa in sé 8000 critiche sul fatto eh ma solo Sicoa non ha un match di pressa e meno 40 ok non ha un match di pressa e meno 40 però guarda quello che hai sottolineato adesso quello che hai sottolineato adesso è l'ennesima dimostrazione di come ci sia un piano a lungo termine anche con lui certo e di come anche lui probabilmente potrà crescere e diventare uno dei volti principali perché noi adesso non sappiamo il reale potenziale di solo Sicoa è stato esposto in un certo modo e c'è c'è qualcosa su cui poter costruire il futuro al momento J.U.S. è quello dove puoi costruirci di più però chissà magari ti viene qualcosa di buono fuori anche con lui e occhio che adesso non arrivano due ecco il riferimento uno di questi sicuro uno di questi sicuro che è Giacob Fatu che ha firmato Giacob Fatu il Super Sina però chi altri ha innalzato il Super Sina cioè e questo è il discorso che ok bella l'attitude era bella la ruthless aggression però nella ruthless aggression Sina Orton Battista basta nell'attitude era Rock Steve Austin basta cioè questo e poi Undertaker che era sempre lì nel mezzo dappertutto permettimi di aggiungere a Sina Orton Battista sì sì assolutamente assolutamente ce lo siamo goduti poco purtroppo perché poi c'è stato il ritiro però Matteo ti ringrazio per il tuo tempo un abbraccio ragazzi un abbraccio a tutti quanti voi ci vediamo settimana prossima alla prossima io vi dico solamente una cosa andate a recuperare se volete l'evento in cui era presente Aldo perché è uscito ieri o due giorni fa Rissa Reale della NWF disponibile su YouTube ah ok la Rumble la Rumble di la NWF e proprio oggi è uscito IWA Breakthrough l'evento che c'è stato qualche settimana fa dove praticamente ho presentato io quindi andate a recuperare perché ci sono match veramente carini anche perché c'è Giordano di qualche chicchetta abbiamo anche qualche chicchetta poi da da svelare quindi occhio ci arriveremo ci arriveremo un abbraccio un bacione a tutti quanti a presto ciao ciao allora ragazzi a giro una vostra opinione per chiudere sulla sulla questione quindi anche poi con con la puntata quindi il vostro pensiero su tutto il frangente Roma Reins plotline Cody Rhodes The Rock eccetera 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 in questo grande romanzo shakespeariano prego Paolo allora io innanzitutto ti dico che arrivare ad un punto in cui cioè come appunto abbiamo visto a presto almeno a 40 una sticella così elevata sarà molto molto difficile perché noi abbiamo visto appunto confluire un qualcosa che è stato costruito in anni un insieme appunto di intrighi di storie di passati che sono appunto andati a a culminare appunto in questi due main event colossali quindi secondo me un qualcosa del genere sarà difficile da replicare in futuro e se mai dovesse accadere ci vorrà sicuramente tantissimo tempo è ovviamente una scrittura perfetta quindi da questo punto di vista è stato speciale perché appunto vedere una run come quella di Reigns che va avanti da agosto 2020 con tutto quello che c'è stato la storia vera di vita vissuta di Cody la sua rincorsa verso il titolo tutto ciò che è accaduto dopo la sua abbandono il fatto che sia ricostruito e quant'altro tutto questo mescolato rimandi a dieci anni fa e con la questione dello shield cioè è un qualcosa di incredibile praticamente lo stesso vedere l'epilogo del regno di Reigns collegarsi al momento dello split dello shield è da brividi se uno ci pensa c'è questo rimando decennale che c'è stato che fondamentalmente tutto ritorna lì cioè nel senso Reigns che ha questa ossessione nei confronti di Rollins da quel tradimento e questa cosa dieci anni dopo su quel palcoscenico lo ha portato a perdere il titolo cioè nel senso quando si dice il cinema è realmente così cioè con qualcosa di clamoroso di clamoroso e io sono davvero fermamente convinto che la bloodline sia la storia più grande mai raccontata dalla tabi da bri e non lo dico adesso lo dico dal ritorno di Reigns praticamente io e Aldo abbiamo avuto modo di parlarne anche nel corso di tutte queste varie live quindi il mio parere lo conosce bene ciò che è stato fatto con Reigns è stato un qualcosa di davvero allucinante sin dal suo ritorno in poi una storyline incredibile un personaggio scritturato benissimo il provider l'head of the table il cui obiettivo era quello appunto di portare la sua dinastia in alto sull'island of relevancy designare Jey Uso come suo sottoposto però con l'intento anche del bene della famiglia perché farlo appunto per dare uno spot grande appunto alla sua dinastia e quant'altro per questo lo aveva scelto come suo primo avversario tutto l'arco narrativo che c'è stato con Jey Uso le varie press in Mania l'uno dopo l'altro dove appunto ha difeso il titolo l'ascesa di Semizendi Kevin Owens di Cody Rhodes stesso le questioni con Settronis tutto questo tutto questo ha trovato il suo culmine massimo a press in Mania 40 tutte queste componenti singole e intrinseche che ci sono state perciò dico che è davvero un qualcosa di unico un qualcosa di enorme di gigante e da replicare sarà molto molto difficile perché quello che è stato messo sul piatto nel Mania 20 Night 2 è stato davvero la sommatoria di tutto questo di tutto ciò c'è la sticella che si è alzata tutte le difese idolate e la storia che si è creata ha contribuito a rendere il tutto ancora più grande ed elevato rendendolo appunto unico come dicevo quindi davvero qui si devono fare solamente gli applausi per quello che è stato fatto e poi un'altra cosa che ho sempre sostenuto è il fatto che la Bloodline per me sia una storia che non finirà mai perché le dinamiche interne che ci sono nella Bloodline sono delle cose che tu ti puoi portare avanti per anni perché chiaramente la dinastia quella è con dei seguaci con due archi narrativi e quant'altro e soprattutto ci saranno anche gli strascichi della Bloodline e di tutto quello che c'è quindi è stata una storia esemplare un personaggio di Reigns che ho amato nel corso di questi anni e mi è piaciuto vederlo anche in questo epilogo proprio conclusivo questa entrata ancora più pomposa maestosa magnificente con questa anche la sua team song remixata ecco proprio all'ennesima potenza come se avesse raggiunto realmente il Goat status da questo punto di vista e quindi niente dobbiamo solamente ringraziare di aver vissuto questa epoca di Roman Reigns ed aggiungo come ha detto Matteo vederlo appunto dal vivo combattere io ho avuto modo sia a Clash the Castle che a Money in the Bank che a Smackdown chiaramente prima di Money in the Bank Laura che a Roman Reigns non ce l'ha nessuno al giorno d'oggi nel business cioè quando appare quando parte la sua musica e compare in scena il modo con cui catalizza l'attenzione in cui si sente che è un'area speciale solamente Reigns ce l'ha cioè solo lui ha questa a questa facoltà ecco di catalizzare l'attenzione di tutto il resto quindi godiamoci e ringraziamo di aver vissuto questa meravigliosa storia e io sono convinto che fra 5-10 anni guardando indietro tutti diranno una cosa che io sostengo invece da anni che stiamo vivendo un periodo d'oro nel wrestling in generale e nello specifico in WWE perché basta andare a confrontare quelle che sono le Wrestlemania pre-36 praticamente c'è un abisso ma così come anche appunto le card dei stessi degli eventi e tante altre cose adesso con la gestione di Triple H questo ha raggiunto l'ennesima potenza perché adesso si sta gestendo tutto nel migliore dei modi e stiamo vedendo anche un prodotto più maturo gestito nella maniera giusta le risorse umane sfruttate a dovere una produzione di show impeccabile cioè vedere uno show della WWE è ancora più una gioia degli occhi oggi per come è gestito dal punto di vista delle telecamere grafiche ha un'attenzione particolare e quant'altro detto ciò parentesi The Rock perché era anche lui parte di questo focus lanciato da Aldo sì è stata una benedizione The Rock in questa Road to Wrestlemania non solo per Cody perché sono d'accordo che il coinvolgimento di The Rock ha fatto sì che la vittoria di Cody fosse ancora più alta ancora più sentita e tutto il resto ma anche perché appunto un The Rock che entra a gamba tese in WWE e fa sì che tutto lo scenario cambi nel senso torni ad essere come dicevo più maturo dall'alto della sua autorità e dall'alto del fatto che fondamentalmente può fare ciò che vuole riportare appunto come dicevo il pro wrestling school e game appunto è dovuto a The Rock cioè l'impennato e l'accelerazione c'è stata la road to Wrestlemania dal suo turnile da quella conferenza stampa che è stata epocale a Las Vegas è stata non indifferente in quanto ad impatto proprio che c'è stato e poi la cosa non è finita perché io prevedo appunto lo scontro tra The Rock e Cody in futuro come ho detto in apertura quindi mi ricollego appunto al tema iniziale della puntata perché con The Rock che va a prendersi una vittoria contro Cody lo schiena nel main event della night one di Wrestlemania con quel pregresso che c'è stato e bien d'asé è automatico appunto una circostanza simile comunque shabu alla Tabithabri a tutto quello che è stato creato a Roman Reigns perché davvero vedere un regno del genere di 4 anni dal 2020 ad oggi è una cosa unica non vedremo mai più una cosa del genere molto probabilmente e poi soprattutto rimanere campioni per 4 anni al giorno d'oggi con una competizione così elevata con un amore di talenti così elevata e con tutte queste dinamiche nell'era più grande mediaticamente parlando della Tabithabri è un riconoscimento allucinante cioè nel senso questo è un qualcosa di impareggiabile che non verrà mai raggiunto in futuro le tue parole danno ulteriore conferma al al fattore non solo di di importanza del momento ma di quanto questi ultimi 4 anni siano stati fondamentali per una crescita del del marchio da Tabithabri ma non solo proprio io ho notato negli ultimi anni una crescita esponenziale anche nel web della della disciplina ed è forse un ulteriore motivo per il quale stiamo tornando ad un boom del wrestling anche qui in Italia forse alzo le mani lo vedremo lo vedremo nel tempo Marco allora io per quanto riguarda Roman Reigns volevo fare un discorso un po' più eh anche andando un po' più indietro nel tempo rispetto al al 2020 nel senso che io per quanto riguarda il mio rapporto con Roman Reigns poi il rapporto per Roman Reigns adatto alla disciplina io ero un detrattore del Roman Reigns in singolo pre 2020 perché c'era questa percezione io idem che era imposto te lo volevano proprio cacciare cacciare in gola non era pronto né atleticamente né a livello proprio di caricarsi sulle spalle tutto quello che comportava essere la faccia della compagnia il face imposto a forza non avevo un personaggio vero e proprio vivevo di eredità delle glorie dello shield perché continuavo a presentarsi con la tire dello shield io all'epoca eh per per sfotterlo lo lo chiamavo Palomo perché sembrava il divo delle telenovela sudamericane con i capelli bagnati bello per attrarre le le ragazze o gli uomini che volevano essere come lui ma non non aveva non aveva nulla ed è sembra proprio forzato il disastro nel 2015 salvato dall'incasso di Rollins torna sempre tutta la storia Rollins che prima ti ti dà la sediata alla schiena e poi ti frega pure il titolo quindi proprio era tutto per tornare alle storie long term storytelling il disastro nel 2016 con quel meno evento infinito di diversi anni e trentadue diciamo che sembrava tutto fare acqua fare acqua a tutte le parti poi purtroppo è successo quello che è successo la scoperta della della malattia lì però è scattato è scattata l'ipocrisia tra il video di alcuni fan o tifo per te ma perché scopro che perché sei malato non perché mi piace quello che fai allora già lì diciamo che la WWE poteva giocarsi la carta paracula del tifalo perché è malato cosa che per fortuna non hanno fatto e sono arrivati a ricostruire completamente il personaggio è dovuto chiaramente succedere questo imprevisto che nessuno si poteva aspettare ma qua mi stupisce che nessuno di noi di volerebbe citato me lo sono perso io perché ho la testa altrove non solo in merito di Roman Reigns ma di Paul Heyman e la decisione di affiancarlo a Paul Heyman facendogli vendere in chiave mark naturalmente l'anima al diavolo dicendo ci penso io a te penso io ai tuoi affari sarò io a gestire tutto quello che tu non sai gestire e da quando Roman Reigns è stato affiancato a Paul Heyman ha messo i primi semini di quello che è stato il personaggio gigantesco che abbiamo visto negli ultimi quattro anni prima solamente il Roman Reigns con l'avvocato poi i semini della Bloodline un fratello uso poi l'altro la sorpresa di solo Sicoa creare questa dinastia come diceva Paolo che può dare spunto per infiniti infinite storylines di prima seconda e di terza fascia possono fare tutto quello che vogliono fino a creare quest'aura di anche se poi il nome se l'è preso il cugino The Rock però dava quell'area da boss Roman Reigns a quel boss da picchiaduro dei videogiochi che tu pensi di aver finito il gioco poi invece arriva lui con tutti gli scagnozzi e in un attimo tu sei tu sei morto sei finito non hai nessuna possibilità contro di lui ed è quello che serviva per fare nascere sia la WWE che per trovargli la sua Nemesi che poi il caso voluto fosse Cody Rhodes non era probabilmente il piano previsto sin dall'inizio però una serie di circostanze hanno fatto sì che fosse Cody Rhodes l'uomo giusto al posto giusto e nel momento giusto poi è subentrata anche il uso il mio soprannome ma non è la wild card nessuno si aspettava che arrivasse The Rock che dice che The Rock perché io nella mia testa la storia della Bloodline poteva finire solo nella Bloodline per me lo scontro finale della Bloodline doveva essere veramente Roma Reigns contro The Rock titolo o non titolo in mezzo ci sarà in futuro non lo so però The Rock come dicevate voi ha aiutato ad elevare sia la potenza della minaccia della Bloodline ulteriormente quando non fosse già minacciosa ma anche per elevare Cody Rhodes per cui è stato fatto tutto un percorso dove tutti ne hanno beneficiato in chiave marketing in chiave smart per cui ne ha beneficiato il personaggio di Roman Reigns hanno beneficiato gli user secondo quello che dicevamo il fil rouge della puntata di tutti quelli che hanno tratto beneficio dalla Bloodline anche la Bloodline stessa ha tratto beneficio dalla Bloodline quindi è stato un percorso che è stato come posso dire magari si ha avuto i suoi fan ha avuto i suoi detrattori purtroppo come dicevate prima i detrattori di Roman Reigns ci sono stati perché molti trovano però non può essere campione si difende una volta ogni sei mesi non può essere questa non può essere quell'altra ma significa anche proprio non aver capito la scrittura del personaggio il personaggio è io faccio quello che voglio nessuno è la mia altezza io posso permettermi di non difendere il titolo per tre mesi perché voi siete dei pezzenti era sostanzialmente quello il senso del personaggio di Roman Reigns e ha funzionato alla grande per cui tanto di capelli mi sono ricreduto completamente su Roman Reigns perché prima ce lo volevano imporre in un modo hanno capito anche la WWE i loro errori di scrittura non riusciamo a imporlo come face significa che non può essere un face proviamo facciamo quello che non abbiamo fatto con John Cena facciamolo diventare il e hanno trovato la quadra hanno raccontato una storia eccezionale niente da aggiungere come te anche io ero un detrattore di Roman Reigns prima di di vederlo giungere al ruolo di tribal chief poi è normale che quando è subentrato il discorso della malattia ci siamo un attimo tutti quanti rilassati sul sul criticarlo e quant'altro dicendo ok andiamoci piano sappiamo che la situazione è questa ci adattiamo così a posto così ci siamo un po' arresi anche a causa purtroppo delle circostanze poi fortunatamente hanno saputo ribaltare la situazione io non mi sarei mai aspettato di comprare il suo merchandising per fare un esempio adesso ho felpe e maglie di Roman Reigns per dire quindi questo è un po' il concetto vale no sono d'accordo con voi e penso comunque sia oggettivo che è stato un regno epico l'abbiamo detto fino adesso e lo è stato anche grazie a lui comunque come appunto stavate dicendo fino a pre-2020 sembra un po' un nuovo John Cena ovvero il volto della compagnia infilato a forza come cucchiaio in bocca e invece ecco è cambiato tutto da quel tempo là e quindi questo sì gran parte del metodo suo tipo Leiman della federazione che comunque gli ha dato le chiavi del successo questo sì per una parte vorrei anche un attimino cercare di valutare anche forse qualche punto meno positivo e comunque qui stiamo condividendo tanti punti salienti di questo regno però ovvio è durato quattro anni quindi è normale che in quattro anni di cose buone possano essercene perché magari non mettiamo Roman Reigns in quattro anni mettiamo i altri quattro lottatori di un regno in sino di un anno di carne al fuoco ce ne deve essere per forza quindi questo sì e se noi pensiamo all'ultimo anno di Roman Reigns non è che ci sia stato tantissimissimissimo perché comunque le cose dei lights di questo di questa cavalcata chiamiamola così sono state la situazione con Semi Zane e con Geuso che poi si è estesa per molti mesi di questo sì però ecco tantissimissimo altro non l'ho visto siccome ecco un altro lato forse negativo è che per tanto tempo abbiamo avuto dei match copia e incolla dall'esito scontato io mi ricordo proprio qua un anno fa a commentare il vestimento 39 che con l'affermarsi di Roman Reigns già sapevamo che da lì ad oggi non sarebbe successo nient'altro per quanto riguarda gli esiti dei match di Roman Reigns e così è stato quindi quello purtroppo è stato un po' l'altra faccia della medaglia di avere un regno così importante poi prima l'altro parlavi del fatto che questo regno ha elevato non solo Roman Reigns ma anche altre persone come magari immagino J.U.S. Semizene o anche altri questo ancora non possiamo dirlo perché J.U.S. ancora non ha fatto niente possono chiamarlo Meneventi J.U.S. ma ad oggi per quanto mi riguarda non è Meneventer e comunque la prova del nuovo a R.S. secondo me non è stato promosso la sfida contro J.U.S. Semizene ne ha guadagnato dal punto di vista di empatia con il pubblico però i risultati ha vinto un titolo di coppia adesso è un titolo intercontinentale comunque secondario ancora siccome c'è bisogno del tempo poi non ricordiamoci non scordiamoci che ciò che è successo con Finn Ballor sconfitto di Dimo in un match con un finale abbastanza poco credibile contro J.U.S. crescente di Chester quindi ecco ci sono stati anche dei punti forse non così regevoli di questa cavalcata per il monestato che comunque rimarrà nella storia immediatamente e comunque è una storia che ancora non è finita perché anch'io sono convinto che prima o poi questo confronto con The Rock avverrà molto probabilmente all'argomento verso il meglio Allora io sono convinto del fatto che formare una nuova leva sia proprio fare quello che hai fatto con J.U.S.O. cioè tu ripeto hai preso una persona che fino al giorno prima non credevi mai di poter vedere in una run singola e indipendentemente dal tipo di percorso tu lo hai preso gli hai dato credibilità in singolo portandolo fino a che ricordiamo lui un mese fa avrebbe dovuto vincere il titolo intercontinentale e quindi è un titolo che attraverso un buon percorso ti può lanciare poi definitivamente verso il main event idem poi per quanto riguarda Semi Zane Semi Zane la gente a The Elimination Chamber 2023 lo voleva vedere campione del mondo campione massimo e quindi raggiungere anche quello status di empatia con il pubblico è molto importante indipendentemente da se diventi un main event o meno cioè quando dico che la storia della Bloodland abbia lanciato nuovi prospetti intendo proprio il fatto che ha dato a nuovi nomi non per forza poi nel main event perché ripeto c'è anche anche il concetto Cody Rhodes Cody Rhodes è tornato in modo importante e quant'altro probabilmente sarebbe arrivato comunque al titolo anche senza una storia come quella della Bloodline però la storia della Bloodline ha rafforzato il profilo di Cody lanciandolo come nuovo volto della compagnia nella nuova era della compagnia ha lanciato poi cioè sta lanciando continuando a lanciare gente come Giuso che poi si ha fallito nello scontro contro il fratello così come ha fallito anche Jeff Hardy quando è 15 anni fa però parliamo di Jeff Hardy così come hanno fallito anche altri in passato però sono comunque riusciti a ricrearsi un loro percorso vediamo per esempio Bret Hart e Owen Hart a diversa il meno a 10 quindi ci sono ci sono tanti altri esempi da fare io aspetto di vedere quale sia la futura formazione magari di un solo Sikoa fin dove si spingeranno con Juso perché ormai con Semi Zain hanno la certezza allo stesso modo con Juso hanno la certezza di vendere di avere una ricezione da parte del pubblico importante attualmente nel roster di Raw chi è che smuove tanto le masse Juso Cody Rhodes e chi altro c'è c'è questi perché a SmackDown è Seth Rollins appunto è molto e CM Punk è molto importante questo e quindi io sinceramente mi ritengo soddisfatto poi sì ci sono stati come allora come anche anche nei più bei romanzi hai dei capitoli dove ti si appende qualcosa cioè anche nelle migliori serie tv ci sono delle puntate dove c'è qualcosa che che sbava un attimo assolutamente però per dirti se devo trovarti un neo sì il match di Extreme Rules 2021 Balor contro Rollins e perdonami contro Reigns dico cavolo però cazzo cioè di far perdere Balor farlo perdere in un altro modo ok però anche la vittoria in sé la conclusione in sé della faida con Brock Lesnar è stato perfetto perché perché dovevi chiuderlo con un mega match e alla fine il migliore scontro tra Roman e Brock lo hai avuto con Roman nelle vesti di tribal chief perché quelli prima sono stati inguardabili obiettivamente Umberto io voglio parlare di Roman Reigns proprio 2020 io mi ricordo che pandemia forse tutti noi appassionati o o meno abbiamo visto comunque nei prodotti WWE come quelle orette quelle due o tre orette dove potevamo veramente distrarci io mi ricordo che personalmente li guardavo in diretta e la cosa che ricordo è che in quel periodo 2020 fino ai 2019 2020 Smackdown era veramente molto indietro sui numeri sugli spettatori rispetto a Raw e parlando ad esempio di Jey Uso la settimana prima che vinse poi quel famoso Fatal 4 che lo rese number one contender di Roman aveva condotto un obrovioso segmento con Lacey Evans Naomi e non mi ricordo chi altro che cantavano ecco che poverino però Roman è stato colui che ci ha accompagnato e forse questo lo stiamo dimenticando forse molti se lo dimenticano in un'era come quella che è stata il Thunderdome cioè io Roman Reigns è come quando noi diciamo eh ma quando ero più piccolo quando c'era la Ruthless Aggression c'era Sina che ci ha accompagnato i vari Edge o i vari Horton e Roman in realtà è stato quel personaggio che noi abbiamo seguito con interesse in un'era dove non c'era pubblico o dove avevamo degli schermi alle arene delle reazioni pre-registrate e quindi questo significa che da quando poi lui è tornato in quel 2020 ha ribaltato un intero show ha superato Raw che non è il fatto che SmackDown duri due ore e Raw tre perché anche allora tre ore Raw e due SmackDown eppure i risultati erano veramente indecenti per lo show blu quindi Roman è colui che pur non piacendo come diceva prima il prof che adesso non c'è faceva bene il suo lavoro ha fatto benissimo il suo lavoro come ad esempio Dominic Mysterio che può piacere o non piacere ma è lì il più odiato attualmente vuol dire che il suo lo sta facendo veramente bene e poi e poi Roman Reigns è stato quel campione che pur dicendo no non voglio vederlo vincere oppure no basta mi ha stufato ha raggiunto record che per esempio erano impensabili e questa stessa Vrestelmania nonostante il risultato finale poi sia stata una sconfitta contro Cody ha segnato ben due record che in pochi altri possono vantare e forse quello dei main event di Vrestelmania rimarrà suo perché io sono sicuro che arriverà anche il decimo e quindi forse non non pensiamo alla grandezza di Roman come personaggio della bloodline come come act perché siamo abituati sempre a dimenticarci di tutto ciò che c'è stato prima cioè ci concentriamo sempre su quello che è avvenuto poco prima e poco prima ci dice un Roman part-timer ma in quel 2020 in quel 2021 Roman Reigns era sempre presente e noi ci siamo aggrappati o gli haters meglio ci siamo aggrappati a questa idea del part-timer relativamente da poco eppure è stata è l'idea che attualmente molti hanno di Roman che è totalmente sbagliata quindi poi diciamo da Face forse piaceva nemmeno nemmeno a lui e lo aveva anche detto che da Face faceva fatica a trovarsi eppure io io dico che Roman è arrivato alla conclusione di un percorso di quattro anni ma che forse noi facciamo ancora fatica a renderci conto di ciò che ci ha donato in questi quattro anni ciò che è stato come personaggio che forse pochi possono dire di essere stati a sua volta quindi questo è quello che penso di Roman io poi The Rock The Rock The Rock aiuta scusami finisci finisci no no vai finisci finisci perché volevo farti una domanda però vai finisci The Rock ha anche aiutato io sono d'accordo ha aiutato più Cody perché come diceva Paolo l'aura di Roman Reigns è intoccabile cioè a Roman Reigns in questo momento e può essere forse una bestemmia forse no non serviva The Rock quanto serviva più a Cody no quello che volevo chiederti tu prima hai citato di essere convinto del fatto che Roman avrà anche il decimo mini event di WrestleMania sì quindi Rock contro Roman e WrestleMania 41 secondo me sì per quanto io vorrei una sfida risolutiva fra Roman e Seth Rollins e spero prima o poi di vederla perché meriterebbero il palcoscenico più grande loro due è anche quello che ci hanno raccontato ieri meriterebbe una fine gloriosa anche se tutto ci dice che il main event il decimo main event di Roman può essere contro The Rock anche perché The Rock era più deluso di tutti della sconfitta di Roman anche perché come abbiamo sempre detto il discorso intanto grazie all'Oia Papi Podcast per il ride il discorso Roman cioè il discorso Bloodline pardon quindi di come chiudere tutta la storia Bloodline è quello cioè avere lo scontro definitivo Roman Reigns contro The Rock così come fu Roman contro Hulk Hogan di Vestimina 18 così come fu Roman contro Sina di Vestimina 28 e 29 cioè chiudere un cerchio in via definitiva e se devi chiudere tutta quella storia la devi chiudere entro massimo l'anno prossimo con con quello scontro quindi la penso come come te tra l'altro già sappiamo che oggi con 9 main event è la persona che ha raggiunto più main event nella storia di di Vestimina tra l'altro due lottati consecutivi come come appunto è successo quest'anno quindi record su record Samu chiudiamo con te beh io non sono mai stato un fan di Roman Reigns anni fa questo credo sia il miglior regno che lui abbia fatto da campione da Hill perché a me da Face non è mai piaciuto forse mi piaceva quando c'è stata la faida con le authority qualche anno fa però poi non mi ha mai detto niente da Face da campione Hill hanno tirato fuori veramente veramente tanto e hanno fatto grandi cose anche mettere The Rock come dicevi te è servito a Cody è servito a Solo Sico a tirare fuori altri nomi che adesso non sarebbero qui voglio dire quindi per me hanno fatto veramente la storia con Roman Reigns è finita un'era e speriamo non nasca una di nuova ancora migliore tra l'altro poi ricordiamo sempre che tutto quello che che è stato posto durante WrestleMania 40 è stato un film in tutto e per tutto un vero e proprio film romanzato che è riuscito poi a tenerci incollati e appunto genera oggi roba di questo tipo che sto per condividervi eccovi qui è finita siamo a 24 ore nemmeno a 24 ore dalla fine di WrestleMania 40 che già stiamo parlando del main event di WrestleMania 41 lo sfido a tornare indietro nel tempo e a trovare prima ancora della Broda e a trovare circostanze che ci facevano parlare in questo modo già di un possibile main event della WrestleMania successiva però ad ogni modo poi ognuno ha le sue priorità le sue scelte e le sue preferenze ecco mettiamola così comunque ragazzi dopo due ore e 40 quasi abbiamo abbiamo fatto anche questo abbiamo recensito Wrestlemania XL abbiamo detto la nostra un po' sulla card in generale soffermandoci poi sui temi principali come appunto il main event della Night One e della Night Two scopriremo poi nel tempo cosa vedremo allora domanda secca proprio dieci secondi a testa un pronostico per la prossima Wrestlemania così mi salvo la clip che la facciamo vedere l'anno prossimo Paolo vabbè scontato dire The Rock contro Roman Reigns per la prossima Wrestlemania abbastanza ti dico si è in punk non avrà il main event l'anno prossimo non ci riuscirà secondo me il treno il treno potrebbe essere passato per queste sfortunate vicissi tu dire l'infortunio questo era l'anno giusto secondo me non è scontata questa cosa quindi ti dico questa questa piccola chicca non si può mai sapere Marco invece io dico che un main event sia in punk se lo prende e l'altro invece Roman Reigns contro The Rock vale difficilissimo però ecco le battle non contiamo The Rock non contiamo Roman Reigns non contiamo CDN Punk boom Mysterio battle il padre Mysterio ovviamente al terzo atto Umberto per la prossima Wrestlemania direi una sfida vecchio stile John Cena Randy Orton anche perché penso che no era quello che volevo dire io era quello che volevo dire io va bene va bene lo accetto lo accetto Samu beh The Rock contro Roman Reigns sicuramente l'altro invece direi Gunter si prende una salata sicuramente un main event nella night one o nella night two questo non lo so io invece io invece non volevo citare Roman contro Rock perché è troppo scontato speriamo non lo dice nessuno speriamo non lo dice nessuno Umberto mi ha fregato letteralmente quindi mi ha rubato lo spot comunque sì spero mi auguro in John Cena contro Randy Orton voi direte ok all'ennesimo atto però non sono mai scontrati one on one a Vesselmania e quale avversario migliore persino se non per chiudere definitivamente la sua carriera in ring insomma quindi vediamo un po' come si metteranno le cose io ragazzi scusami l'ultima ultima cosa comunque secondo me un pronostico che può essere fattibile e possiamo dire magari che a Vesselmania il prossimo anno come Gunter ci arriva da campione che comunque oggi come oggi che abbiamo 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 sia in punk abbiamo tra le in priest al momento abbiamo già uso Gunter al momento partirebbe leggermente indietro quindi questa questo potrebbe essere una cosa che fa un po' potrebbe potrebbe arrivarci perché no perché no perché no va bene e niente abbiamo abbiamo fatto anche questa prima di lasciarvi con il classico appuntamento per la prossima settimana io ovviamente ringrazio come sempre tutte tutte le piattaforme che ci che ci danno la possibilità di di andare in onda quindi i vari zona wrestling.net world wrestling.it generation sport.it la rivista di The Shield of Wrestling GS Radio che da un mese a questa parte siamo anche sulla radio di GS Radio Radio Libera Tutti come siamo da oltre tre anni e quindi davvero ringrazio tutti coloro che ci danno questa possibilità le varie piattaforme podcast tra Spotify Spreaker eccetera potete trovarci praticamente ovunque e logicamente ogni lunedì sera ci trovate in live sia sul Twitch YouTube di Open Wrestling TV e sia sulla pagina Facebook di zona wrestling.net allora piccolo appunto nei giorni scorsi ho lanciato sulla pagina Instagram dei sondaggi degli indizi per scoprire quale sarà il nostro prossimo special guest internazionale in molti hanno risposto solo uno è riuscito a prenderci dopo il quinto indizio se non mi sbaglio a vincere il contest è stato Lorenzo Avenia che per chi non lo conoscesse è colui che gestisce il profilo di TNA Wrestling Italia e niente adesso vi devo vi devo mostrare la grafichina di colui che sarà il nostro prossimo special guest un secondo faccio la condivisione per chi purtroppo ci ascolta soltanto in radio rimane fregato no dai scherzo glielo lo dico a voce allora vediamo un po' eccolo qui intervista esclusiva a Bobby Fish disponibile a partire da mercoledì 10 aprile un'intervista fatta insieme a Paolo di Generation Sport e The Shield of Wrestling che appunto abbiamo realizzato tutti e tre assieme questa 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 bella chiacchierata a rappresentare The Shield c'è stato Manuel Ish e quindi niente speriamo di potervi rallegrare ulteriormente con con questo con questo nuovo pezzo e poi tra l'altro settimana prossima vi annuncerò un'ulteriore chicchetta in merito ad un'altra intervista che abbiamo già deve soltanto ormai andare in onda quindi grazie ancora a Bobby Fish che ci ha donato e speriamo che possa possa soddisfarvi ecco mettiamola così io Paolo ti ringrazio per il tuo tempo per essere passato qui da noi lo sai Aldo è sempre un piacere e invito tutti a guardare la l'intervista di Bobby Fish che è stata davvero davvero molto molto interessante super disponibile e non vedo l'ora appunto che esca questo contenuto perché è stata anche una grande emozione condividere con te questa questa intervista un saluto a tutti ovviamente e ringraziamo soprattutto l'Università di Napoli che ti ha rimandato l'esame e ha fatto in modo che tu potessi essere qui non potevo essere qui esatto esatto non avrei potuto vedere un ringraziamento al rettore ciao caro un ringraziamento al rettore ho potuto vedere Vressalmenia stamattina grazie a questa cosa un saluto a te Marco grazie mille ciao Aldo ciao a tutti quanti è sempre un piacere essere qui al PwC grazie a tutti grazie Vale grazie a voi a presto mi ha soddisfatto davvero tanto sono felice che sei stato qui con noi a fare questa bella chiccherata mi auguro di di trovarti in futuro e di incrementare ulteriormente questa questo rapporto che ormai c'è tra il PwC e zonavrestream.net assolutamente sì mi farebbe piacere esserci nuovamente è stato veramente molto bello ed emozionante nonostante un'ansia iniziale è stato veramente molto bello vi ringrazio a tutti vai tranquillo grazie mille di nuovo grazie mille ancora e grazie a te Samu e soprattutto ricordiamo del tuo progetto NJPW Italy seguitelo su Instagram ragazzi grazie mille grazie mille Aldo e grazie a tutti quanti grazie a tutti da me e il nostro Obi-Wan Kenobi è tutto appuntamento a mercoledì 10 aprile per la nostra intervista a Bobby Fish e no non per un'ultima volta perché continueremo ancora a farlo acknowledge the tribal chief e acknowledge pro wrestling culture ciao ragazzi